buongiorno a tutti vi do il benvenuto a behind the scene e vi vedo numerosi e quindi grazie ci fa davvero molto molto piacere e grazie di essere qui soprattutto mi presento per chi non mi conosce io sono elisa corrod del venice center for digital e public humanities del dipartamento dei studi umanistici di venezia e organizzatrice di questo evento con le mie colleghe che vedete qui che parleranno tra pochissimo e leonora del pozzo e sophia antonello behind the scenes è stato pianificato per aprile 20 20 ma ovviamente è stato posticipato per la situazione sanitaria mondiale ma ce l'abbiamo fatta sono molto felice perché siamo riusciti anche a proporlo in modalità workshop e vuole essere un'occasione di dialogo sul tema dei dati archeologici quindi in particolare sulle sfide che il mondo digitale pone oggi ai ricercatori e professionisti e insomma un po tutta tutti gli addetti ai lavori quindi anche agli studenti e tra di noi quindi noi vogliamo approfondire questa tematica oggi presentando alcune tecniche competenze e esperienze che possono essere di supporto all'archeologo ma prima di addentrarci nella giornata e spiegarvi l'ordine del giorno eccetera io e anche prima di presentarmi i nostri super ospiti darei subito il via ai saluti istituzionali e quindi a chi ha promosso questo evento e che noi ringraziamo fin da ora andando con ordine quindi lascerei la parola al direttore del dipartimento di studi umanistici dell'Università di Venezia Giovanni Vian. Grazie. Buongiorno a tutti e buongiorno in particolare a chi ha promosso più di altri in collaborazione con gli altri quindi Elisa Corrò e le dottoressi Eleonora Dal Pozzo e Sofia Antonello questa iniziativa che mi sembra detto da non competente delle vostre discipline ma ormai sempre più sollecitato accogliere quanto dinamica sia la componente archeologica e la componente informatica digitale del nostro dipartimento accogliere ad apprezzare quello che è senza altro un seminario che si profila come un'occasione di rinnovamento di esplorazione di percorsi nuovi una proposta bella anche perché viene a cogliere la spinta che nasce da giovani ricercatrici e altri collaboratori insomma ma quindi anche con quel coinvolgimento delle generazioni che possono aiutare davvero la scienza a fare da intersezione tra il mondo che è l'esito dell'eredità di quanto abbiamo alle spalle e un mondo futuro che è sempre più secondo me segnato da cambiamenti impetuosi proprio sul versante digitale informatico su quelle cose scontate che abbiamo davanti tutti i giorni ciascuno di noi e apprezzando anche quanto me lo dicono continuamente i colleghi archeologi e le colleghe archeologhe quanto l'archeologia stessa stia attraversando un profondo processo di rivisitazione anche delle metodologie dalle tecniche degli approcci che senz'altro non potrà che beneficiare da quanto voi oggi andrete approfondendo e esponendo ai vostri colleghi quindi io vi faccio davvero molti auguri sono contento il dipartimento vi ringrazia del apporto significativo che date con i centri colleghi coinvolti mi spiace soltanto di dover scappare a gestire con cambio di schermata un consiglio di dipartimento fra qualche minuto spero mi possiate scusare e vi faccio davvero molti auguri per questa realizzazione che sono certo sarà una delle tante cose che apporterete a vantaggio della nostra comunità dipartimentale buona giornata e buon lavoro a tutti grazie grazie professore è stato un piacere grazie ancora buon lavoro bene allora se io andrei avanti lascerei la parola adesso a franz fischer il direttore del venice center for digital e public humanities prego franz grazie lisa e ho poco da aggiungere sono molto felice di salutarvi tutti specialmente voi voi tre come organizatrici e adesso torno in inglese altrimenti faccio sofrire troppo so i'm really happy to to welcome everybody here to the to this high profile event in in the digital archaeology which is one of our core fields of research at the venice center for digital and public humanities which has been launched last year in the summer last year and um it's not only a coffee of the departmental but so especially at our center because uh archaeology is um uh one of those traditional uh disciplines that uh is uh most transformed by the uh innovation that comes with digital technology and uh so the uh it has been said that every archaeologist is uh by nature uh now uh a digital archaeologist so and uh the achievements here in that field are very important also to uh to the other disciplines and the three uh research projects that are carried out by the three organizers here uh are proof of this so the the interdisciplinary work that you uh carry out at our center is very very important a driving force at our center also for for other other projects very important and um we get even stronger so that's just a side note uh because we just uh hired um federico um bernardini uh who is uh a very uh very uh expert so in the connection of uh archaeology and the sciences so he's from the ictp in uh in trieste uh he just started and he will also be a core core member of of our um expert in digital and public humanities um the other aspect the public aspects of where where elisa especially is very very active uh so to uh carry out archaeology with the public in the public for the public or by the uh so uh just an announcement so tomorrow we have the next highlight uh in our series of seminars in digital public humanities we have a guest speaker sarah may from swansea university who will talk about post-industrial heritage studies and especially on the engagement of the public and communities in the uh the covet under the covet under the covet emergency and not only focus on the benefits of the digital media for uh making our research more accessible to the public but also to the to the boundaries and and new problems that arise uh with uh uh doing what we are doing in in the digital media so that will be very interesting and uh so um a nice follow-up to this event so i wish you all well for this uh event the whole day um i hope you will enjoy and i'm sure you will enjoy it and will engage in in fruitful discussions and in the afternoon i will try to get back after the concilio where i unfortunately have to follow giovanni vian and so i would love to stay but these are duties that are unavoidable so thank you very much everybody the organizers and uh and the guests speakers especially so who contribute to this event today thank you thank you france thank you very much and welcome to federico bernardini i see here thank you lascerei la parola adesso a professor sauro gelich invece del direttore del dipart del centro studio archeologia venezia quindi professore prego grazie grazie a lei grazie a tutti anch'io mi complimento con gli organizzatori di questo incontro eh perché parlare di archeologia parlare di archeologia digitale è sicuramente come hanno detto come ha detto chi mi ha preceduto un aspetto sempre più importante della nostra disciplina mi sembra poi che il tema che è stato scelto per questo incontro sia un tema fondamentale perché riguarda in realtà quello che possiamo definire l'abc della nostra disciplina cioè la costruzione della fonte i luoghi dove conservarla e come conservarla e soprattutto come trasmetterla e condividerla che sono dei passaggi sempre più fondamentali come molti di noi sanno che pratica il nostro mestiere sa questi passaggi hanno sicuramente delle implicazioni tecniche oggi penso si parlerà molto anche di questo però vorrei aggiungere che questi passaggi hanno anche delle implicazioni epistemologiche ed etiche molto profonde ed anche su questo sarà bene che gli archeologi riflettano compiutamente apertamente non so se più giovani tra di noi sono ben consapevoli di questa situazione ma ancora oggi in molti ambienti si ha un'idea monopolistica dell'agire archeologico come se la produzione della fonte e dunque la sua condivisione in un archivio pubblico cartaceo digitale sia un passaggio legato sostanzialmente alla discrezionalità del singolo una discrezionalità che spesso viene ritenuta legittima la possibilità che oggi invece noi abbiamo di gestire e di condividere milioni di dati in tempo reale attraverso appunto gli strumenti di citare possediamo sta direi lentamente finalmente scardinando questo sistema se mi permettete di gestire un bene pubblico per questo io penso sia fondamentale ragionare su come fare questo e le molte esperienze che sono state praticate in questi ultimi anni che in parte vengano anche presentate mi sembra in questa circostanza vanno proprio in quella direzione dio anch'io anche per questo motivo e soprattutto per questo motivo vi ringrazio per quello che state facendo e vi invito a continuare a riflettere a ragionare a lavorare soprattutto perché come dicevo in precedenza un patrimonio pubblico un bene pubblico sia un patrimonio davvero finalmente condiviso per il bene anche della ricerca archeologica della stessa disciplina anche io mi devo scusare perché come il nostro direttore sono impegnato in un consiglio di ripartimento prometto che se possibile mi connetterò e sicuramente lo farò nel pomeriggio dove spero anzi sono sicuro che ci sarà su questo tema un vivace eh una vivace discussione vi auguro buon lavoro e vi saluto ad oggi pomeriggio arrivederci grazie professore per le tematiche che ha sollevato interessantissime come ha detto lui spero che anch'io nel pomeriggio abbiamo avremo modo di di approfondire tutte queste cose adesso lascio la parola al professor sperti che è già pronto e il nostro coordinatore di dottorato prego professore grazie solo due parole dopo quello che è stato detto dal direttore giovanni vianda il direttore del centro franz fisher e dal collega sauro geli che solo per salutare eh relatori e presenti naturalmente le tre organizzatrici di questo eh workshop che è dedicato sicuramente a un tema non banale eh appunto i rapporti diciamo behind the scenes come avete giustamente scritto tra archeologia strumenti e pratiche eh digitali un workshop che è organizzato all'interno del appunto del venice center eh che abbiamo sentito non ha certo bisogno di eh presentazioni da Sofia Antonello Elisa Corro e Eleonora del Pozzo e vorrei sottolineare che Sofia Antonello ed Eleonora del Pozzo sono scusate dottorande presso il nostro dottorato interateneo di scienze dell'antichità e che Elisa Corro ha ottenuto qualche anno fa ehm il dottorato per cui eh io parlo nelle vesti di coordinatore ancora per qualche ora in realtà perché oggi ci sarà eh proprio nel consiglio eh di dipartimento in cui a cui anch'io devo devo partecipare fra qualche minuto ci sarà un cambio di un cambio della guardia ma però mi fa molto piacere che queste iniziative nascono anche in seno diciamo al dottorato proprio dimostrazione che la ricerca non si ferma e non rimane chiusa nelle biblioteche ma coinvolge eh attori diversi istituzionali e privati e naturalmente anche un pubblico interessato eh sul tema ha già parlato ehm Sauro Gelli che posso veramente aggiungere pochissimo da profano nella eh breve presentazione eh che le tre organizzatrici hanno mostrato c'è si dice giustamente che è un tema che ormai da decenni ehm interessa diciamo la eh archeologia eh eh certamente non soltanto italiana io non so se posso ehm come dire avanzare un'ipotesi sul certificato di nascita della dell'archeologia digitale in Italia ma secondo me insomma questo è un punto su cui sicuramente Sauro Gelli chi ne sa di più ma la nascita nel 1990 della rivista archeologia eh e calcolatori eh che ha visto tra l'altro tra i protagonisti anche Riccardo Francovi c'è veramente un momento eh direi fondamentale sono passati trent' anni e sembra un secolo fa e questa è la cosa eh veramente impressionante che ci dimostra la eh lo sviluppo eh veramente vertiginoso di questi in tutti i campi di questa di questa diciamo come chiamarlo insomma dalla gestione dei dati di scavo al GIS per non citare che due degli aspetti diciamo che sono eh più noti eh ho trovato anche molto efficace l'organizzazione con interventi sia di studiosi della eh ricercatori diciamo dell'università e anche sia eh tecnici che lavorano eh nel privato dunque un'occasione di confronto che io vi auguro eh proficua da tutti i punti di vista anch'io scusatemi ripeto lo stesso mantra devo eh scollegarmi perché alle dieci e un quarto inizia il consiglio ma vedo che alle tre mi pare se non sbaglio eh c'è una discussione e sarà senz'altro eh insomma una discussione molto interessante a cui intendo nei limiti di queste giornate che sono sempre un po' convulsi e partecipare per cui grazie ancora a tutti e eh buona buona giornata e buona discussione grazie professore grazie a tutti voi davvero per questa introduzione e speriamo di vederci nel pomeriggio e bene e allora noi andiamo avanti la giornata eh si svolgerà in questo modo e poi passo la parola ai nostri speaker non parlo più ve lo prometto eh durante la mattinata allora i nostri ospiti ci racconteranno le loro esperienze nel campo dell'archeologia digitale quindi proponendo i casi studio metodi di lavoro che hanno sviluppato nelle loro nelle loro esperienze nelle loro attività eh il pomeriggio invece come avrete già letto nel programma sarà dedicato ad un momento di confronto quindi di dialogo speriamo soprattutto durante il quale ognuno di noi potrà condividere le proprie esperienze e in merito proprio a queste tematiche che affronteremo nella mattinata e l'obiettivo è proprio quello di ehm offrire nuove prospettive nuove prospettive nuove idee delle soluzioni nuove a quei problemi con cui l'archeologia si confronta possiamo dire ormai quasi quotidianamente c'è una piccola modifica al programma a causa di un imprevisto ve lo dico subito eh purtroppo non sarà possibile ascoltare il contributo di Giuseppe Naponiello ma abbiamo comunque pensato ad un'alternativa e quindi iniziamo subito con l'intervento di Mariana Fighiera eh a cui seguiranno Francesca Nichini e Gabriele Gattiglia e concluderà la mattinata Caterina Balletti grazie Caterina e dell'Università di Venezia con un contributo sulla geomatica in archeologia. Allora bene ci siamo lascerei la parola adesso alla nostra collega Sofia Antonello per presentare Mariana. Grazie. Grazie Elisa. Buongiorno a tutti. Sono molto contenta di presentarvi Mariana e anche di vederla finalmente solitamente ci vedevamo d'estate in scavo quest'anno non è stato possibile e dunque Mariana ha conseguito il dottorato di ricerca tre anni fa presso l'Università di Catania con un progetto dal titolo modello relazionale quale strumento per una migliore comprensione del patrimonio culturale il caso studio degli small finds da Festossa e Gheatriada. Quindi Mariana si occupa di pre-storia e protostoria di ambito geo e al contempo con un taglio praticamente di digital archeologi e in questo caso di database. È stata segnista presso l'Università di Catania questa volta con un assegno invece più in tema di Public Archeology e sulla documentazione e la comunicazione del patrimonio archeologico sia siciliano che cretese. Oltre a far parte della missione di Gheatriada di Gheatriada ha recentemente collaborato con il Forte Institute a Iraclion, Creta, per uno studio più dettagliato dei materiali in metallo di Gheatriada. Poi ho lasciato il meglio per ultimo di recente pubblicazione il suo libro sulla gestione e l'affidabilità e l'interpretazione dei dati archeologici. L'ambito quindi quello dell'impiego del database, della fuzzy logic, dei legacy data ed è questo il tema che affronterà in questo intervento. Sono molto contenta di ascoltarla e quindi le lascio la parola adesso. Grazie, spero che mi sentiate. Sì, benissimo. Perfetto. Va bene. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Grazie. Vorrei ringraziare ovviamente le organizzatrici di questo evento, Sofia Antonello, Eleonora Del Pozzo e Elisa Corrò e anche il professor Fischer per l'invito a partecipare a questo workshop. Sono molto lieta di essere qui oggi con voi e di poter condividere con voi appunto quella che è la mia ricerca e quelle che sono le mie riflessioni nell'ambito appunto dei digital archeological data. Già appunto Sofia ha introdotto un po' quella che è stato il mio percorso di studi e appunto io da IJista mi sono confrontata con quello che è il mondo della digital archaeology a partire dal mio dottorato di ricerca proprio perché mi sono occupata di una tipologia di reperti archeologici, i cosiddetti small finds, che hanno delle caratteristiche che andremo a vedere anche nel dettaglio oggi, che appunto mi hanno condotto a indagare alcuni aspetti quali quello della gestione, dell'incertezza del dato, della gestione dell'affidabilità dei dati, che appunto sono stati, hanno dato un po' l'avvio di quella che è il mio approfondimento su questo tema. Vi provo a condividere intanto la mia presentazione. perfetto. Mi date conferma che vedete? Immagino di sì. Sì? Ecco qua. Sì. Allora, appunto come vi dicevo oggi il mio intervento è focalizzato proprio sui concetti di legacy data e sul concetto di interpretazione e il mio intento è quello di proporre un possibile l'approccio per gestire l'affidabilità del dato archeologico. Quindi per prima cosa vorrei appunto soffermarmi sul concetto di legacy data. È un concetto che appunto nasce in ambito informatico e fa riferimento allo sviluppo e alla gestione di dati di importanza rilevante effettuato usando sia per la loro creazione, sia per il loro immagazzinamento, sistemi software e hardware che potremmo definire ormai obsoleti. Così come in parallelo il termine legacy systems fa riferimento a tutti i vecchi metodi, sistemi, tecnologie, applicazioni che di fatto continuano ad essere utilizzati perché funzionano ancora per soddisfare le esigenze degli utenti, anche se di fatto sono disponibili di tecnologie più recenti e metodi più efficienti. Il termine legacy data è utilizzato anche nell'ambito della digital archaeology per definire quella grande quantità di informazioni che è accumulata negli archivi o che continua di fatto ad essere prodotta secondo dei metodi tradizionali e che quindi va digitalizzata, ovvero per riferirsi a quella mole di dati che anche se già digitalizzata può risultare inadeguata ad un trattamento informatico che sia aderente agli attuali standard. L'uso del termine legacy comunque non deve necessariamente farci pensare a qualcosa di obsoleto, quindi non deve essere percepito per forza come tale. Si riferisce appunto in generale a tutte quelle fonti e a quei dati che se ancora non sono stati digitalizzati, prima di poter essere usati in un ambiente digitale, devono essere in un certo qual modo preparati, potremmo dire, quindi di fatto anche manipolati. Voi vedete che scorrono le slide, vero? No, sei ancora a quella iniziale. Ok, perfetto, allora. Mi era sorto il dubbio infatti. Pensavo che stessi descrivendo solo la prima. Sì, vediamo solo la finestra di PowerPoint per intenderci. Ok. La con le slide vicino. Infatti ho avuto questo dubbio. Un attimo. Perché nel momento in cui dai la condivisione dello schermo, devi dare lo schermo intero e non solo la finestra. Sì. Ma perché già mi è capitato in un'altra conferenza, quindi ho chiesto subito perché appunto... Allora, sono in tornamento nel schermo. Vediamo un attimo. Ok. Allora, spero di riuscire, non so perché mi dà come se fosse praticamente, mi ha bloccato il PowerPoint in questo momento, quindi un attimo interrompo la condivisione e così ci riproviamo. Dottoressa, buongiorno, le chiedo scusa, sono arrivata in ritardo, sono la professoressa Bucciarelli, ma non ho avuto tempo di entrare. Io sono una linguista computazionale e che in questo momento lei stava dicendo una cosa importantissima che è la legacy, cioè praticamente che i dati vanno preparati. Questa è una cosa importantissima e di cui non se ne tiene conto, quindi mi deve fare la grazia, non la cortesia, di ripetere quello che ha detto. Perché questa cosa, io sto preparando un call, faccio ricerca sui testi poetici, allora i dati vanno preparati, non è possibile che io parto e metto l'acronimo e immagazzino solamente i dati, no. No, è chiaro, mi scusi dottoressa, però è importantissimo quello che lei sta dicendo, complimenti, grazie. Grazie a lei, è proprio diciamo un po' il fultro del mio intervento oggi, è proprio questo. E quindi la seguirò con attenzione. La ringrazio, la ringrazio davvero. Mi dispiace solo, spero che a breve riesca a condividere il mio schermo, purtroppo devo cambiare computer per un problema di webcam, come gli organizzatrici sanno, e quindi va bene, sono gli intoppi delle presentazioni ormai. Bella della diretta. Esatto. Come siamo abituati. Eh sì, direi di sì. Spero a breve di riuscire. Mi dispiace per questa attesa. La condivisione è bloccata con una sorta di... Ah, quindi non è colpa del mio computer, perché io vedo che sta andando in tilt, vedo tutte le immagini, ma io mi aspetto di tutto dal mio computer. Però non vorrei perdere questa lezione, mi assicuri. Passerò magari all'altro computer. Io spero di farcela a breve. Comunque, intanto appunto, dicevamo sì, sicuramente il fulcro appunto del mio intervento sono da una parte i legacy data, dall'altra appunto quello che è il concetto di interpretazione, e quindi di come di fatto il dato archeologico, che è quello di cui ci occupiamo naturalmente noi, può essere trattato in un ambiente digitale, diciamo, ottenendo in considerazione questo aspetto, quello appunto dell'interpretazione, quello appunto dell'incertezza del dato. Allora, vediamo. Voi in ogni caso state vedendo quello che accade nel mio computer, immagino? Sì. Ok, vabbè, nel computer che non è proprio mio. Ok, credo che ci siamo quasi. Di fatto, vabbè, appunto, si è persa soltanto una slide che era relativa ai legacy data, con una serie appunto di citazioni che vanno un po' da quello che è l'aspetto prettamente informatico. La vedete, la vedete, giusto adesso? Perfettamente. Prova ad andare avanti così vediamo se funziona. Ok, benissimo. Va bene, perfetto, ci siamo. Allora, dicevamo appunto che nella slide precedente mostravo semplicemente una serie di riferimenti bibliografici a quello che è il termine legacy, non soltanto in contesto appunto di digital in generale, ma nello specifico, nel nostro caso, nella digital archaeology. Di fatto, appunto, secondo la definizione che abbiamo dato, il termine legacy si riferisce quindi a tutti quelli che sono i dati archeologici che comprendono da una parte naturalmente i dati grezzi, quindi i dati archeografici, e dall'altra anche tutti quei documenti e quindi quelli elaborati che derivano da questi dati grezzi e naturalmente tutto quello che poi è il materiale anche edito. Quindi si tratta di cosa? Di documentazione grafica, fotografica, di rilievi, documenti che sono redatti a mano, come possono essere i taccuni di scavo, gli inventari, e poi tutto quello che è la serie di pubblicazioni, quindi dalle relazioni preliminari a tutto quello che possono essere gli articoli, i lavori monografici e così via. A questi si affiancano anche quei dati che sono in formato digitale e che sono stati archiviati, potremmo dire, utilizzando sistemi informatici che possiamo definire, come abbiamo detto prima, obsoleti. La pertinenza del termine legacy è evidente perché da una parte si tratta di dati che hanno un valore documentario essenziale, dall'altra spesso stiamo parlando di una mole di dati non indifferenti, soprattutto in quei casi in cui diciamo che io direi ci si scontra con la documentazione relativa a missioni archeologiche pluridecennali, come è il caso che appunto mi riguarda e di cui parleremo oggi. Innanzitutto però va fatta una distinzione direi doverosa tra quello che è il concetto di dato e quello che è il concetto di documento, quindi tra dato grezzo e la sua elaborazione. Si è bloccata. Vediamo se riesce a... Sì, ecco. È caduta la connessione. Si fa prima a uscire e rientrare quando succedono queste cose. Eccola qui. Ci siamo? Sì, ti abbiamo perso. Ah no, io non me ne sono nemmeno accorta. Ok, bene, perfetto. Ok, quindi dicevo appunto che tutti quelli che noi possiamo definire dati archeografici che appunto di fatto sono i cosiddetti dati primari. Mentre dall'altra parte da questi dati grezzi poi noi possiamo ricavare i dati elaborati, quindi la documentazione archeologica che è appunto per la cui realizzazione entra in gioco il secondo concetto su cui mi vorrei soffermare che appunto è quello della interpretazione. Quindi queste elaborazioni successive sono il risultato di tutte le fasi che caratterizzano il lavoro dell'archeologo che quindi partendo dal lavoro sul campo e dell'acquisizione dei dati sul campo giunge poi alla rielaborazione dei dati nella fase di studio e per poi arrivare alla fase di pubblicazione degli stessi e quindi dei risultati ottenuti. Non è il mio intento oggi entrare nel merito né di appunto delle questioni che riguardano il concetto di proprietà intellettuale o di ma l'aspetto che mi preme sottolineare è appunto quello che riguarda il concetto di interpretazione. Il confine fra dato grezzo è dato elaborato. Ci sono dei casi in cui questo confine può essere labile. Purtroppo oggi non è la linea forse è un pochino un pochino così ci riproviamo ti aspettiamo Mariana. Eccola in ogni caso è interessantissimo quello che stai dicendo per cui vale la pena aspettarti. Il microfono per favore. Ricordati. Non capisco perché intanto zoom praticamente implode, si scade la mia connessione e ritorno da voi. Non ti preoccupare vai. Niente quindi dicevo appunto che l'archeologo appunto distingue la fase di raccolta dei dati grezzi da quella di analisi e di interpretazione dei dati che è destinata poi come sappiamo ovviamente all'ottenimento di risultati scientifici significativi. Questa suddivisione in fin dei conti se ci pensiamo coincide un po' con quella che è la separazione che c'è tra diciamo il momento del lavoro o dello scavo manuale vero e proprio da quello che è il lavoro più intellettuale di registrazione dei dati e di documentazione. Quindi di fatto in realtà questa separazione tra questi momenti è funzionale non solo all'aumento dell'efficienza del momento della raccolta dei dati ma anche al miglioramento della qualità dei dati stessi. È vero anche però che per questa divisione tra questi due momenti ha creato anche un dibattito sulle strategie di digital data collection è un dibattito teso a evidenziare il fatto che a volte diciamo che questa distinzione può anche arrivare a creare una sorta di diversa percezione del dato una diversa percezione del passato. Se noi appunto citiamo la Jackson e la Gitelman potremmo dire che i dati vengono apparentemente prima dei fatti e quindi ma al tempo stesso non sono mai del tutto trasparenti ed evidenti. Quindi riflettendo su questo aspetto diciamo epistemologico instabile dei dati possiamo sottolineare il fatto che noi quando parliamo di dati facciamo sempre riferimento al fatto che possono essere raccolti, inseriti, collezionati, archiviati, elaborati ma anche interpretati. Ecco questo ultimo termine, l'interpretazione, in che modo si ripercuote sugli altri aspetti che ho elencato prima. Levmanovic afferma che i dati non esistono di per sé ma vanno generati, devono essere generati e che quindi per esistere e per funzionare devono essere immaginati come tali. Pertanto l'immaginazione dei dati implica una base interpretativa. Volendo portare un po' all'estremo questa interpretazione potremmo dire che la raccolta e la gestione dei dati ne presuppone l'interpretazione. Nel trattamento delle fonti archeologiche in ogni caso a parte preservare l'origine dell'informazione spesso diventa molto difficile anche riuscire a valutare l'affidabilità del dato. Spesso le informazioni archeologiche sono strettamente legate all'atto interpretativo del singolo ricercatore. Noi sappiamo anche che le stesse proprietà materiali di un manufatto sono sottoposte ad una continua rinegoziazione, non soltanto perché ci sono dei cambiamenti intenzionali che riguardano l'oggetto in sé, ma anche perché quando l'oggetto viene classificato e viene quindi interpretato, appunto passa per quella che è l'atto interpretativo di chi lo studia, di chi si indaga su di esso, quindi in ultima istanza dell'archeologo. In questo senso è possibile addirittura sostenere che un oggetto può divenire addirittura qualcosa di altro rispetto a quello che era stato in origine perché appunto è filtrato dall'atto interpretativo stesso. Anche una serie di attività come appunto la redazione delle schede sui reperti mobili rinvenuti in uno scavo, le rilevazioni grafiche e fotografiche che sono una serie di attività che hanno un carattere soltanto apparentemente compilativo ma che sicuramente sono il più possibile attività di tipo oggettivo e anche di potremmo dire tecnico, in un secondo momento finiscono per confluire nella redazione ad esempio dei giornali di scavo e nelle relazioni appunto anche conclusive nelle quali i margini di soggettività aumentano. Quindi diciamo che la componente, potremmo definirla autoriale e quindi quella soggettiva, entra in gioco già a partire dal momento in cui si produce anche una il più possibile dettagliata e scientifica documentazione di quello che è stato rinvenuto. Inoltre spesso l'archeologo è costretto a trovarsi di fronte a un altro problema che si affianca al problema interpretativo che è quello dell'incertezza. Spesso l'archeologo è costretto a di fatto lavorare con una serie di dati che sono accompagnati da un punto interrogativo. La necessità di chiarire i criteri di una buona gestione dei dati è percepita non soltanto da chi pubblica e da chi conserva i dati ma anche dagli utenti, quindi da chi ne usufruisce. In questo senso ci sono stati una serie di dibattiti internazionali che hanno portato a creare una serie di standard per far sì che il materiale scientifico possa essere sia trovato, sia citato in maniera diciamo coerente e possa essere appunto trovato in maniera più semplice. Da questi principi sono nati i cosiddetti fair principles che appunto definiscono regole per depositare, per esplorare, per condividere e per utilizzare i dati, focalizzandosi su quelle che sono le loro capacità di essere findable, accessible, interoperable e reusable. Non entro nel merito ovviamente dei fair data, basti dire in questo contesto che l'ultimo di questi aspetti è il reusable, quindi il riutilizzo dei dati è sicuramente uno dei più complessi e investe una serie di problematiche metodologiche. Per riuso noi possiamo intendere sia un riuso diretto di un dato, di un'informazione o il frazionamento dei dati riutilizzandoli poi in contesti differenti. L'imposizione di regole e di codifiche comunque da parte di quello che è lo strumento informatico ha un'influenza positiva nei confronti del lavoro dell'archeologo. Infatti obbliga l'archeologo spesso ad una revisione sia dei procedimenti logici che metodologici utilizzati, lo spinge a verificare l'affidabilità delle informazioni e dei dati, la coerenza di quello che dice e anche a dividenziare eventuali contraddittorietà. Attraverso una gestione informatica dei dati infatti possono essere messi in luce anche una serie di errori comuni per l'archeologo. Ad esempio basti citare la necessità per lo strumento informatico di eliminare le ridondanze che appunto è una caratteristica basilare dello strumento informatico e che porta l'archeologo ad un perfezionamento dei metodi di acquisizione del dato e di trattamento del dato archeologico. Quindi spinge l'archeologo ad effettuare dei controlli maggiori sulla qualità e sull'organizzazione dei suoi dati. Abbiamo detto appunto che il riuso è un aspetto molto problematico e coinvolge non soltanto il problema dell'integrità del dato, della sua provenienza, della sua trasparenza, ma anche l'aspetto interpretativo, dell'interpretazione. Infatti noi sappiamo che le informazioni archeologiche possono essere parzialmente soggettive, i manufatti possono essere, cioè sono anzi classificati secondo quelle che sono osservazioni, analisi, esperimenti ed esperienza del singolo ricercatore e la soggettività può interessare una serie di aspetti che vanno da quello cronologico, tipologico e funzionale. Un obiettivo che si deve raggiungere è sicuramente quello di riuscire innanzitutto a ottimizzare la gestione dei dati archeologici per meglio rispondere a quelli che sono i bisogni degli utenti, ma al tempo stesso anche di riuscire a documentare e applicare un riuso sia quantitativo sia qualitativo ottimale. Due anni fa, nel 2018, in senno a quella che è il meeting annuale promosso dal CIDOC-ICOM, il professor Nicolucci ha curato una special session dedicata proprio a questo argomento, quindi ai fair data, ai fair principles e al problema di, diciamo, ampliare quella che è la R dei fair principles, quindi il riuso, perché appunto nell'ottica di avere un controllo non soltanto sulla provenienza del dato, ma anche sulla provenienza delle ipotesi e dei risultati che si generano dall'analisi dei dati. La proposta che è nata in seno appunto a questa sessione speciale è stata quella di moltiplicare la R in tre, quindi affiancare al concetto di riuso anche quello di rilevanza e quello di affidabilità. Diciamo che giudicare la pertinenza e l'affidabilità potrebbero sembrare qualcosa di ovvio, ma in realtà non è sempre così, soprattutto quando si ha a che fare con dati creati da altri. Diciamo che nel caso della gestione dei dati archeologici, al problema dell'affidabilità abbiamo già detto si affianca spesso quello dell'incertezza del dato. All'interno di uno strumento informatico rigido è inevitabile praticamente alterare quella che è l'informazione incerta, trasformandola necessariamente in un dato certo. La classificazione del dato archeologico è quindi praticamente ancorata a quello che è la logica duale di ascendenza booleana in cui la lettura dell'informazione classicamente è o true o false, quindi associata a un valore numerico che è appunto o l'uno o lo zero. All'interno di un sistema di gestione dei dati, quindi di tipo tradizionale, le informazioni ambigue finiscono per essere trattate praticamente in maniera arbitraria e si è costretti a mettere in gioco una serie di semplificazioni che alla fine possono praticamente alterare anche l'interpretazione finale del dato. Questo cosa comporta? Comporta sicuramente il fatto che la variabilità del dato archeologico finisce per essere annullata e l'informazione una volta che viene archiviata diviene inevitabilmente certa. Per riuscire a preservare invece un grado di probabilità è fondamentale che lo strumento informatico abbracci un concetto di flessibilità. In particolare faccio riferimento anche a tutti quegli strumenti informatici che si occupano di classificazione tipologica e che si basano sull'idea che un oggetto ha delle determinate attributi, delle determinate caratteristiche che lo definiscono come un ben preciso tipo. Mentre, come sottolineano anche Hermon e Nicolucci, in realtà non esistono dei criteri fissi di tipicità. La realtà è sempre molto più complessa e difficilmente è possibile inquadrare un dato all'interno di categorie schematizzate senza rischiare di semplificarla eccessivamente. Una delle possibilità per gestire questi aspetti è data dal cosiddetto fuzzy method. Il fuzzy sta per sfocato, sfumato e grazie all'utilizzo di questo metodo è possibile svincolarsi dalla classica lettura del dato come positivo o negativo abbracciando la possibilità di tenere in considerazione una serie di valori intermedi. Quindi questo permette di inglobare all'interno di un sistema informatico una serie di variabili che appunto fanno riferimento all'incertezza. E questo come accade? Utilizzando un dato matematico che praticamente è caratterizzato dall'utilizzo di valori decimali che sono compresi tra lo 0 e l'1 di cui abbiamo parlato prima, quindi il falso e il vero di ascendenza booleana, quindi una serie di valori numerici decimali ognuno dei quali viene associato un termine. In altre parole possiamo dire che il metodo fuzzy praticamente è in grado di codificare l'incertezza. In ambito archeologico ha avuto diverse applicazioni a partire dagli anni 90, ovviamente non mi soffermo qui, ho messo un po' una carellata di quelli che sono i progetti e le pubblicazioni principali che hanno trattato appunto dell'applicazione del metodo fuzzy in archeologia, basti dire che appunto è stato utilizzato nell'ambito della classificazione dei materiali o ancora per gestire problemi di cronologia incerta ad esempio. Ma appunto come nell'ambito che mi riguarda che è quello della classificazione dei materiali, come la logica fuzzy può essere applicata? Di fatto può essere applicata quando le informazioni che si possiedono non permettono di definire un oggetto all'interno di una categoria tipologica ben precisa, oppure quando le stesse categorie tipologiche hanno i contorni un po' sfumati. Di fatto il metodo fuzzy può essere utilizzato per gestire due diverse categorie di dati o delle cosiddette etichette, quindi dei valori prestabiliti come quello tipologico oppure del maschio-femmina, ovvero per gestire dati numerici come ad esempio quello della cronologia o appunto quello dell'età del defunto. Nel caso che mi riguarda l'ho utilizzato appunto per gestire dei concetti e in particolare quello della tipologia è di fatto cosa entra in gioco? Il concetto di probabilità di appartenenza ad una data tipologia. Se noi guardiamo la prima tabella a sinistra appunto vediamo che secondo l'approccio tradizionale ogni reperto può essere classificato e associato a una sola tipologia per cui vedremo il valore 1 presente soltanto in un tipo e per tutti gli altri avremo il valore 0, quindi falso. L'approccio fuzzy appunto procede in una maniera del tutto differente. Per ogni reperto si valuta la possibilità di appartenenza ad ogni categoria tipologica, quindi noi possiamo vedere ad esempio che il reperto 1 ha uno 0,6 che è appunto vedremo che la scala di valori viene scelta a priori, quindi abbiamo una scala di valori che poi vedremo come può essere appunto scelta. In questo caso ad esempio 0,6 equivarrà a molto probabile, mentre 0,2 poco probabile, mentre nel caso del reperto 2 abbiamo un'assoluta certezza che fa che appunto sia di tipo A. È interessante il caso del reperto 4 quando vediamo un valore 1 dato sia al tipo A sia al tipo C, il che significa che praticamente è sicuramente il reperto facente parte o della tipologia A o della tipologia C, ma non si sa, ma il ricercatore non sa scegliere tra le due. Sono casi rari però appunto per mostrarvi un po' come funziona. Quindi per ogni oggetto cosa si può fare? Si può stabilire non tanto se appartiene ad una tipologia ma quanto appartiene a quella tipologia. Vedremo appunto che la scala di valori a cui corrispondono questi valori decimali numerici viene stabilita a priori. Ci sono ovviamente diverse variabili che cambiano da caso a caso per gestire questa scala di valori. In generale noi possiamo dire che ci si avvale comunque di un approccio sì soggettivo ma non arbitrario all'incertezza citando De Finetti. Partendo da questi valori è possibile poi calcolare quello che è stato chiamato indice di attendibilità dell'attribuzione che appunto si ottiene con la formula proposta già nel 2003 da Hermon e Nicolucci e questa formula fa sì che questo indice sia pari a zero quando tutti i coefficienti sono nulli. Quindi sicuramente vi è una assegnazione del tutto impossibile ed è pari ad uno quando l'assegnazione è sicuramente attendibile, quindi certa al 100%. Ovviamente tutti quelli che sono i gradi tra 0 e 1, quindi tutti i valori decimali, saranno indici di attendibilità intermedi di questa attribuzione. Allora, nello specifico la scelta di applicare questo metodo nel mio caso studio è stata dettata appunto da quelle che sono le caratteristiche dei reperti con cui mi sono dovuta confrontare, che sono appunto i cosiddetti small finds, che sono dei reperti considerati minori e non sono diagnostici per cronologia e per funzione, in quanto sono spesso polifunzionali, utilizzati in molteplici contesti di tipo domestico, rituale, liturgico, ma soprattutto in contesti di tipo artigianale e produttivo. Proprio per il loro essere non diagnostici da un punto di vista soprattutto cronologico, il loro potenziale informativo è stato sottovalutato in passato e questo ha portato ovviamente a una serie di problemi nella loro documentazione. Diciamo che ormai è in atto un'analisi critica di queste categorie di manufatti che sta portando alla consapevolezza che gli small finds in realtà sono portatori di un significato, sono degli oggetti che permettono di approfondire e di conoscere il passato, qualora però si conosca ovviamente, venga compreso bene il contesto di rimedimento e gli ambiti sociali in cui operavano. Quindi diciamo c'è una maggiore apertura, ma sicuramente, diciamo già da diversi anni nei confronti di questa categoria di reperti, ma sicuramente quando ci si confronta con le vecchie fonti si hanno davanti una serie di problematiche. Nel mio caso appunto mi sono occupata degli small finds provenienti dai due siti di Festosse da Ghiatriadi a Creta, si tratta di due siti che hanno avuto una complessa storia degli studi e delle ricerche a partire dal 1900 e quindi mi sono confrontata con una mole di legacy data non indifferente. Per quanto riguarda proprio il trattamento di questa categoria di reperti, quello che ho rilevato maggiormente era innanzitutto una mancanza di sistematicità nella documentazione, infatti spesso venivano soltanto citati, ovvero in serie di pubblicazioni definitive completamente tralasciati e quindi sono dovute risalire indietro a tutte quelle che sono le fonti che abbiamo definito anche ovviamente i dati grezzi e quindi anche tutti quelli che sono i tappini di scavo, le relazioni preliminari che si sono rivelati essere una fonte molto più utile nel mio caso. Anna, riusci a stringere un pochino? Non so quanto ti manca ancora. Sì, va bene, vado un po' più veloce allora. Grazie, scusa. No, 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 non mi preoccupate. Allora, uno dei problemi principali con cui mi sono dovuta confrontare appunto è stato la molteplicità delle fonti e la molteplicità delle attribuzioni funzionali e tipologiche. Qui appunto ho messo alcuni numeri per farvi vedere il numero dei reperti, 1221 da Festos, 626 da Dieterà, del numero delle fonti e delle attribuzioni tipologiche per ognuno di essi. L'obiettivo appunto è stato quello di trattare all'interno di un sistema informatico che appunto si chiama GER e che è un sistema relazionale e che però si è voluto porre come una sorta di contenitore di memoria e quindi l'obiettivo è stato quello di non tralasciare nessuna delle fonti partendo dalle più antiche fino alle più recenti e di tenere in considerazione tutte quelle che erano le attribuzioni date nel corso del tempo ai reperti e oggetto di studio. Ritornando a quello che abbiamo detto prima appunto ho utilizzato, ho avuto l'onore di partecipare alla special session di cui vi dicevo e quindi ho sviluppato quelle che sono i due concetti di rilevanza e di affidabilità e in che senso appunto approfondendo il concetto di rilevanza delle fonti tenendo in considerazione tutte quelle che sono le loro tipologie e le caratteristiche chiave. Mentre per quanto riguarda l'affidabilità mi sono occupata dell'affidabilità dell'attribuzione tipologica e funzionale dei reperti perché come dicevo sono appunto gli aspetti più problematici inerenti agli small finds. Per quanto riguarda la rilevanza delle fonti, il concetto di affidabilità appunto come sappiamo nell'ambito scientifico ad esempio si basa sull'autorità degli autori, sulle pubblicazioni, sappiamo che l'approccio tradizionale all'abilitazione scientifica è quello della peer review. Nel mio caso ho appunto i parametri che ho scelto sono stati quello della recensiorità della fonte, dell'autorevolezza scientifica, delle affermazioni che viene desunta dai dati scientifici e dalle analisi di dettaglio messe a supporto dei dati, il grado di certezza espresso all'interno della stessa attribuzione dallo stesso autore e la coerenza ovviamente con precedenti interpretazioni. Quindi all'interno del sistema GEAR abbiamo appunto innanzitutto un archivio che si occupa dei gradi di appartenenza, erano quelli che dicevo prima, quindi le scale di valori che sono appunto dei numeri decimali affiancati a una serie di etichette e in questo senso vorrei appunto sottolineare il fatto che si tratta di scale di valori implementabili diciamo all'infinito, quindi il ricercatore, il singolo ricercatore può in base al caso studio anche modularle nel modo che crede più opportuno e appunto nell'archivio relativo alle fonti dei reperti è stata data la possibilità di avere più fonti per un singolo reperto naturalmente e si sono trattati parametri di recensiorietà e di autorevolezza scientifica come potete vedere qui sulla destra. Mentre per quanto riguarda ovviamente il tipo di fonte si è associato ad ogni tipologia di fonte un grado di affidabilità e di rilevanza. Questo stesso procedimento è stato appunto applicato alla affidabilità delle stesse attribuzioni tipologiche e funzionali e di fatto da questo lavoro sono scaturiti una serie di coefficienti fazzi e di indici per la gestione delle fonti. Di fatto appunto applicando quello che è la formula matematica che abbiamo visto prima, quindi l'indice di attendibilità delle attribuzioni del reperto, è possibile poi anche riuscire a stabilire un coefficiente di affidabilità dello stesso enunciato. Vi faccio un esempio per concludere appunto nel caso di questo reperto che vediamo qui abbiamo noi un calcolo del coefficiente di affidabilità di ciascun enunciato che è quello che vediamo sull'ultima colonna, l'XE e quindi per ogni fonte si riesce a calcolare una affidabilità e poi naturalmente questa affidabilità naturalmente tiene conto di quello che abbiamo detto ovviamente della rilevanza della fonte e della rilevanza del tipo di fonte. Naturalmente poi è possibile anche calcolare una diciamo percentuale di affidabilità dell'intero reperto, in questo caso è 0,66 e questo porta a evidenziare il fatto che questa attribuzione tipologica non è diciamo è passibile di miglioramento, quindi non è abbastanza incerta. Naturalmente questo poi porta a riuscire a confrontare i reperti fra loro, ad avere una frequenza, a calcolare una frequenza percentuale anche per tipologia come vediamo in questo caso e appunto per concludere vorrei sottolineare appunto quali possono essere i vantaggi di questo approccio. Sicuramente non si tratta di una quantificazione astratta né tantomeno di un esercizio puramente teorico ma si tratta di un procedimento logico che è messo in atto per cercare di incorporare all'interno del dato numerico e quindi del dato trattato all'interno di uno strumento informatico quella che è il concetto di incertezza che abbiamo visto è insito nel dato archeologico. Di fatto praticamente noi abbiamo la possibilità di ad esempio evidenziare quei reperti che hanno un basso livello di attendibilità e quindi possiamo suggerire di applicare una revisione su quei reperti, dà la possibilità di rianalizzare i legacy data in maniera tale da considerare anche l'attendibilità di questi ultimi, quindi proponendo un riutilizzo più efficace ed evita anche la perdita di informazioni soprattutto durante quella che è la fase di ristudio e di rianalisi dei dati. Vi ringrazio per la vostra attenzione, scusatemi se ho sforato con i tempi. No, figurati. Grazie Marianna. È stato illuminante, molto molto interessante. e ti abbiamo accorciato soltanto per i problemi tecnici e perché abbiamo adesso gli altri ospiti. Quindi direi di rimandare direttamente le domande oggi pomeriggio, tanto abbiamo lo spazio dedicato a questo. Se ci sono delle domande brevissime, ma se no rimandiamo tutto oggi pomeriggio, direi. D'accordo? Con piacere, sì sì, certo. Così possiamo discuterle anche con tempo e con tranquillità, senza correre, quindi dandoti possibilità di rispondere in maniera completa, ecco. Grazie a voi. Grazie ancora. Grazie. Bene, possiamo andare avanti con i prossimi. Allora, abbiamo il piacere di presentare Francesca e Gabriele del laboratorio Mappa, che molti di voi sicuramente conosceranno. È un bel team davvero di specialisti e ne vedo anche altri tra i partecipanti qui oggi, quindi grazie di esserci. È un team che sviluppa metodologie digitali applicate all'archeologia all'interno del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa. Si occupa, tra le tante altre cose, anche di Open Data, Data Analysis, GIS, Artificial Intelligence e ne ricordo uno su tutti, il famoso esemplare Archived Project, con lo sviluppo di una tecnologia di riconoscimento automatico delle immagini, ma anche si occupa di comunicazione, di disseminazione didattica dei dati archeologici. Tra i più recenti progetti vale la pena di sottolineare il progetto MAGO, che so che è appena partito, visto, quindi quello di Managing Archaeological Data for a Sustainable Governance of the Heritage, dedicato allo sviluppo di una piattaforma integrata che permette di gestire l'intero ciclo della documentazione archeologica, quindi anche consentendo l'accessibilità dei dati a una più efficace ricerca, attività di ricerca, comunicazione, valorizzazione. Se non sbaglio siete anche appena tornati virtualmente da Cipro, dall'Euromed 2020, quindi ecco, oggi Francesca Anichini e Gabriele Gattiglia, con Al Passo con l'Europa, ci parleranno delle sfide culturali degli Open Data archeologici, quindi benvenuti, vi ringrazio e lascerei a voi la parola adesso. Grazie Elisa, buongiorno a tutti. Noi ci siamo, diciamo, divisi un po' le cose da raccontarvi, quindi parte Gabriele e poi mi aggancio io. Allora, grazie a tutti, vi condivido lo schermo, spero che si veda, ancora grazie. Quanto tempo abbiamo così ci organizziamo per non sforare? Fino alle 45, quindi una mezz'oretta. Ah, una mezz'oretta, ok, va benissimo. Allora, iniziamo subito e niente. Diciamo, la nostra presentazione è divisa in due parti. La prima è un po' un'introduzione generale per chiarire alcuni aspetti, alcune cose le abbiamo anche brevemente sentite dall'intervento prima di Marianna Figuera e cercheremo, diciamo, di chiarire alcuni aspetti, quindi faremo una carellata su quelle che sono i dati e gli open data. Noi, appunto, lavoriamo al laboratorio Mappa, ci ha già presentato Elisa, quindi non mi dilungo su questo. Dico soltanto che da ormai cinque anni l'Università di Pisa ha un corso di archeologia digitale che è un corso che intende l'archeologia digitale come archeologia dei dati e quindi è un corso che non si occupa fondamentalmente, diciamo, di software o di alcuni software o di applicazioni in senso stretto, ma cerca di analizzare nel complesso il ciclo di vita dei dati dalla raccolta alla gestione, all'analisi fino alla disseminazione, pubblicazione. Quindi questo intervento nasce un po' da questa esperienza. Si parla tanto di dati e quindi cerchiamo di definire brevemente che cosa sono i dati. I dati non sono altro che un insieme di valori che possono essere qualitativi o quantitativi, che quindi nel campo nostro possono essere misurazioni, misurazioni fatte con delle strumentazioni legate alla diagnostica, ma anche, più banalmente, la scheda di unità stratigrafica. Sono dati perché all'interno, in qualche modo, il sapere e le conoscenze sono codificate in una maniera che possa essere poi utilizzata per essere processata. I dati grezzi, invece, sono i dati non processati, cioè i dati così come vengono raccolti. Quindi, diciamo, se ad esempio utilizziamo un laser scanner, il dato grezzo è la nuvola di punti, prima che questa sia ripulita. Se invece parliamo di unità stratigrafiche, il nostro dato grezzo è la prima redazione della scheda di unità stratigrafica, prima ancora che magari venga revisionata. E quindi questo, diciamo, è quello che definisce, diciamo, in generale, semplificando, quello che intendiamo dati. Quando parliamo, diciamo, di open data, introduciamo un termine che è il dataset, cioè è un insieme, una collezione di dati. Per esempio, il dataset del nostro scavo archeologico può contenere contemporaneamente tutti l'insieme delle tabelle relative alle unità stratigrafiche, alle quantificazioni della ceramica, e le piante e le fotografie. Questo è un insieme di dati che descrivono il nostro scavo stratigrafico, quindi il nostro evento. Nella disciplina degli open data, invece, è l'unità di misura di come vengono conservate le informazioni all'interno di un repository, cioè di un archivio digitale. Detto questo, che cos'è? Cosa sono gli open data? Da dove vengono? Qual è, diciamo, il movimento, diciamo, da cui derivano? Perché è, appunto, un movimento? L'open data è, diciamo, una parte di un concetto più ampio che è quello delle cosiddette open agenda, cioè di tutto l'insieme di servizi aperti che vanno da Wikipedia all'open source software che ci permettono, diciamo, di lavorare, di rapportarci alla scienza in maniera aperta. Nello specifico, diciamo, l'open data è strettamente legato all'open access, cioè la possibilità, questo lo conosciamo abbastanza bene, di avere pubblicazioni in formato aperto che si possano leggere liberamente sul web. E quindi, diciamo, da questa idea, no, di avere, diciamo, le informazioni, quindi le informazioni già interpretate, nasce l'idea di avere anche i dati che stanno alla base di queste informazioni. perché poi, appunto, l'interpretazione può essere diversa partendo dagli stessi dati e quindi è importante sempre poter risalire alla fonte. Che cos'è, in generale, l'idea di open data? È un dato che è, appunto, aperto. Aperto vuol dire che possiamo fare fondamentalmente quello che vogliamo, cioè siamo liberi di utilizzarlo, riutilizzarlo e ridistribuirlo, quindi riversarlo nuovamente in rete, fondamentalmente chiedendo al massimo due cose. Che venga citato chi ha creato questi dati o che questi dati nuovi vengano di nuovo condivisi come dati aperti, ma su questo ritorneremo poi brevemente. Quindi l'importante è che il dato aperto è un dato che io ne posso fare quello che voglio. Diceva prima chi ci ha preceduto lo posso sezionare, lo posso dividere, lo posso riaggregare, che poi è l'importante di avere dei dati aperti ad altri set di dati. Questo concetto non è un concetto nuovo, sebbene se ne senta parlare diciamo da tempi recenti, il concetto di open data in ambito scientifico nasce negli anni 50, quindi non è legato diciamo a internet in qualche modo, ma nasce con l'anno geofisico internazionale 57-58 nel quale gli scienziati si misero d'accordo per condividere i loro dati per due motivi, per evitare il rischio di perdita dei dati stessi e quindi la preservazione e per massimizzare l'accessibilità e quindi l'utilizzo di questi dati. Nel 1965 si aggiunse un fattore in più, i dati che venivano conservati dovevano essere machine readable, cioè immediatamente leggibili da una macchina, da un computer, quindi con dei formati che fossero processabili immediatamente. È sicuramente diventato di moda a partire dagli anni 2000, quando diciamo siamo stati bombardati da questo concetto degli open data. Neil Kroes che era alla Commissione Europea come commissario per l'innovazione diceva che erano il nuovo petrolio, ora petrolio è un paragone che non ci piace, però questo era per dire che potevano essere fonte di ricchezza e di sviluppo. Quindi nel 2004 l'organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica decide che tutti i dati che sono stati creati attraverso finanziamenti pubblici dovrebbero essere pubblicamente disponibili. All'inizio si parla soltanto dei dati della pubblica amministrazione, soltanto nel 2013 viene introdotto anche l'idea che debbano essere aperti anche i dati dei beni culturali e quindi diciamo da questo punto di vista il processo è molto più è molto più recente fino a quando pochi mesi dopo no pochi giorni dopo scusate il G8 addirittura definì un capitolo sugli open data dicendo che devono essere aperti di default quindi lo strano non deve essere avere i dati aperti come purtroppo capita nel nostro settore spesso e volentieri ma il contrario che ci sia un motivo per non renderli aperti come è stato detto prima per fare diciamo open data ci si basa su i cosiddetti principi FAIR sono stati enunciati brevemente cercheremo di vederli un pochino di più nello specifico che sono findable accessible interoperable and reusable vediamoli un attimo più da vicino cosa si intende per findable cioè per il fatto che sia trovabile vuol dire che devono essere devono avere un identificatore persistente cioè devono essere in un punto della rete che ci permetta di utilizzarli di utilizzarli sempre quindi devono essere in rete e devono essere facilmente individuabili per fare questo noi utilizziamo un sistema che si chiama DOI un digital object identifier che permette appunto di dire con precisione dove si trovi quel dato all'interno della nostra rete l'altro elemento è che abbiano dei metadati dei metadati ricchi pieni di informazioni ma che cosa sono i metadati i metadati sono fondamentalmente come le etichette sulle sui barattoli se noi abbiamo due barattoli in uno c'è il sale l'altro c'è lo zucchero o lo assaggiamo o ci sbagliamo che è peggio e mettiamo il sale nel caffè però se avessimo un'etichetta ci descriverebbero immediatamente che cosa c'è dentro e cioè i metadati sono in genere definiti come i dati che parlano di dati ma in realtà sono la descrizione del contenuto e sono fondamentali perché ci permettono di dire tantissime cose su questi dati che cosa sono quando sono stati raccolti da chi ricollegandoci anche a quanto detto prima possiamo anche esprimere le metodologie con cui sono stati raccolti e quindi anche poter cercare di decifrare l'accuratezza con il quale sono stati raccolti e quindi che cosa poi ne possiamo effettivamente effettivamente fare quindi i metadati sono fondamentali quando parliamo di dati non ci interessa solo il dato in sé ma anche la descrizione del dato per farlo abbiamo molti metodi il più famoso diciamo è il cosiddetto Dublin Core che è un sistema che è molto elastico e utilizzando semplicemente 15 elementi ci permette di descrivere al meglio i dati nasce da Dublin nell'Ohio non da Dublin in Irlanda e nasce da i bibliotecari qua avete un esempio di come si come può essere descritta la divina commedia però può essere applicata a qualsiasi a qualsiasi cosa è una struttura non gerarchica estremamente flessibile abbiamo detto che la seconda lettera è la I interoperabili cosa vuol dire? vuol dire che per essere interoperabili devono avere delle caratteristiche che permettano di dialogare con altri dati e quali sono diciamo queste 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 caratteristiche sono quelle legate diciamo ai ai formati e agli e agli agli standard in pratica di che cosa definiamo? cosa sono i formati? sono gli aspetti cioè che tipo di file abbiamo a disposizione non tutti i file sono diciamo uguali non tutti sono belli uguali ci sono dei file belli dei file brutti e dei file cattivi ad esempio un pdf non è un file aperto perché i dati rimangono intrappolati all'interno ci sono dei file come ad esempio il dvg di cad che non è un file aperto ci sono invece dei formati come il csv per esprimere ad esempio i dati tabellari o il geojson per esprimere i dati geografici che invece sono aperti perché sono aperti? perché li posso utilizzare con qualsiasi software e non deve avere un software proprietario di riferimento a questo si lega l'enorme diciamo mondo dei cosiddetti linked data cioè il fatto di poter collegare tra di loro i dati in modo da accrescere le mie informazioni e come faccio questo? attraverso quella che viene definita l'interoperabilità semantica l'interoperabilità semantica viene definita attraverso un insieme diciamo di triplette definite in una struttura che si chiama resource description framework e nel quale diciamo si passa da un concetto relazionale come quello dei database a cui siamo abituati a un concetto di grafo cioè io posso esprimere tramite dei piccoli pensierini formati da un soggetto da un predicato e da un oggetto dei concetti tipo tizio è amico di Caio oppure tizio ha fatto questo oggetto o questo oggetto ha una certa cronologia per aiutarmi in questo posso utilizzare dei vocabolari diciamo strutturati quindi non tutte le volte dover andare a spiegare che cosa intendo ma andare a cercare in questi vocabolari delle definizioni che possano essere condivise ampiamente quindi posso utilizzare vocabolari e ontologie e ontologie sono diciamo la strutturazione complessiva del sapere mentre uno definisce i concetti l'altro struttura la conoscenza in un determinato campo quindi abbiamo tantissimi tipi di vocabolari uno è ad esempio heritage data che sono diciamo un vocabolario per i beni culturali abbiamo il famoso art and architecture or thesaurus del Ghetti abbiamo iconoclass ad esempio per descrivere l'iconografia e abbiamo delle ontologie cioè degli schemi che diciamo strutturano la conoscenza in un determinato dominio come per i beni culturali il Psydoc CRM ma la cosa fondamentale è che questi dati siano riutilizzabili per essere riutilizzabili come si diceva prima devono avere dei metadati dei metadati che ci permettano di capire bene che tipo di dati siano ma devono avere delle licenze le licenze sono il cancello che ci dice la via non sono una chiusura non sono una barriera sono quello che ci permette di fare qualcosa e quindi per fare questo in genere vengono utilizzate delle licenze aperte come le cosiddette licenze creative common cioè delle licenze che hanno un grande uso che sono tradotte in tantissime lingue che quindi ci permettono di essere chiari quando noi distribuiamo i nostri dati le licenze principali che interessano i dati aperti sono creative common by cioè attribution dire chi ha fatto e creative common share alike cioè lo condivido allo stesso modo era aperto e te lo restituisco aperto se utilizzo una ricenza cc0 invece vuol dire che non voglio niente non devi dire chi l'ha fatto e è di dominio pubblico è tutto free altra cosa importante non ci devono essere restrizioni tecnologiche quindi io devo poter utilizzare questi dati che devono essere diciamo processabili immediatamente da da una macchina quindi questo diciamo è il framework il quadro all'interno del quale si muovono gli open data ma quando parliamo di archeologia a che cosa ci ci riferiamo ora qui passo la palla a Francesca che entra diciamo più nello specifico della parte archeologica e quindi lascio che lei condivida lo schermo allora state che faccio questo passaggio tecnico la vedete sì perfetto ok allora tutta ovviamente questa spiegazione c'ha così come del resto anche quello che ci ha raccontato Mariana già introdotto a a quello che consideriamo essere il dato archeologico Gabriele ci ha detto prima cosa sono i dati in termini archeologici cioè sono quel nostro codice sorgente quella la base dalla quale non possiamo prescindere per qualunque nostra interpretazione qualunque nostra ricostruzione qualunque nostro diciamo dissertazione con più o meno grado di soggettività come appunto Mariana prima spiegava bene abbiamo sicuramente una una grande mole di dati da gestire l'archeologia ha una grande mole di dati e ha anche la responsabilità di gestire questi dati in quanto a differenza di altre discipline non ha la possibilità di ripeterli la nostra disciplina è ovviamente distruttiva e non può ripercorrere integralmente il processo non può ricreare il contesto che ha appena scavato quindi ha un problema elevatissimo in termini di documentazione cioè registrazione del dato ma anche di preservazione di quel dato all'interno del archeologico come di altri tipi di dati ovviamente però all'interno del nostro contesto poi ci si pongono una serie di sfide che quando parliamo di open data si vanno direttamente a interfacciare con i temi della privacy così come della legittimità con la quale possiamo utilizzare determinati dati la loro provenienza abbiamo tanti ambiti diversi con i quali ci dobbiamo interrogare interfacciare il concetto come diceva prima anche Gabriele il concetto di open data in realtà è per quanto nasce lontano nel tempo e per quanto sia già dai primi anni 2000 che se ne parla ha ancora delle difficoltà però ad essere proprio nucleato in una maniera così articolata e a essere soprattutto compreso da tutti nelle sue sfaccettature intendo ovviamente nella nostra disciplina nel nostro campo quindi abbiamo intanto una parte dei nostri dati che ci richiedono un approccio particolare che sono tutti quelli che noi definiamo come letteratura grigia cioè sono quei dati che rientrano non sono nel bianco così come lo vediamo qua del pubblicato né il nero dell'idea ancora stratta ma rientrano in tutta quella via di mezzo di prodotti che non trovano ancora una collocazione diciamo tra virgolette ufficiale o comunque a stampa soprattutto ma hanno già raccolgono già una serie di invece elaborazioni interpretative nascono da contesti diversi quali le relazioni di scavo le tesi di laurea i report che si possono fare in varie esperienze professionali elementi video o audio o comunque set di dati che sono però diciamo articolati dentro a un prodotto che non è ancora pubblicato ma che ha già invece una sua organizzazione e soprattutto un suo autore questo tipo di dati che appunto chiamiamo letteratura grigia sono in realtà dati molto utilizzati molto più di quello che si pensi perché pur non trovando una sede in una pubblicazione spesso sono quelli che ci portano i dati più freschi che quindi ci raccontano le cose più recenti le scoperte più recenti le riflessioni più recenti e sono quelli che molto spesso non finiscono o finiscono solo in parte in un archivio dove invece magari si conservano tutti gli altri tipi di dati ma che invece rimangono in un limbo questo è un tipo di dato che è prettamente archeologico ovviamente non solo ma nel nostro settore è estremamente presente e che ci richiede uno sforzo di condivisione che non sempre avviene o non avviene in maniera così diciamo comune in maniera quotidiana dall'altra parte invece abbiamo un problema legato ai nostri dati ai dati che produciamo insieme ad ogni ricerca abbiamo un problema di conservazione di degradazione sia del supporto sia del contenuto o meglio con il cambiamento del supporto quindi dal cartaceo al digitale abbiamo siamo riusciti a immagazzinare e anche a produrre molti più dati ma allo stesso tempo abbiamo perso una rischiamo e in parte abbiamo perso una quantità di dati che ormai sono conservati su supporti non più leggibili o come diceva Marianna all'inizio di questa nostra mattinata in una maniera che non ci ha più consentito elaborare quindi abbiamo un problema di preservazione del dato che sicuramente ci richiede delle riflessioni in questo senso e che ancora non è del tutto affrontato allora non è del tutto affrontato e vedo il tempo che mi scorre veloce quindi vi faccio veramente una carrellata molto veloce non è del tutto affrontato secondo me a mio avviso almeno in Italia per quanto ci sono delle esperienze nel mondo sicuramente all'avanguardia e che hanno già uno storico in questo senso prima prima di tra tutte l'archeology data service di York che immagino tutti conosciate è che è il più longevo degli archivi archeologici open data dove ormai sono conservati oltre 3 milioni di documenti di ogni tipo provenienti da qualunque tipo di indagine ricerca lavoro professionale ogni tipo di intervento che viene fatto in Gran Bretagna e non solo ci sono anche cose non anglosassoni che consente la piena il pieno accesso ai dati dati anche questi di qualunque tipo da immagini a dati geografici dati quantitativi ci trovate di tutto e che ormai da anni ha dimostrato come il suo utilizzo sia intanto da parte di diciamo tanti soggetti diversi ha un'utenza molto varia che va sia dal dall'utenza accademica ma anche da quella governativa da quella legata all'archeologia professionale che ovviamente in Gran Bretagna è anche molto più sviluppata e strutturata che non da noi all'appassionato a un pubblico chiamiamolo così con una brutta parola generico ha anche dimostrato quanto viene riutilizzato quanto questi dati siano stati riutilizzati e quanto abbiano apportato della ricchezza sia in termini culturali ma anche economici al paese che continua a mantenere questo tipo di archivio uno veramente solo così per darvi una nota uno proprio dei riutilizzi visto che Elisa citava Arcaide fra i progetti che il nostro laboratorio ha curato uno proprio dei riutilizzi è stato fatto con Arcaide passando tramite l'ADS è stato possibile infatti utilizzare il catalogo delle ampe romane di Southampton che lì è pubblicato come open data poter acquisire tutti quei dati e poterli integrare per uno dei processi delle ricostruzioni tridimensionali necessari poi al sistema di training dell'intelligenza artificiale che lavora dietro all'app di Arcaide per riuscire quindi arrivare poi al pieno utilizzo in tutt'altro ovviamente in un contesto completamente diverso da quello per cui il catalogo di Southampton è stato creato e pubblicato e allo stesso modo tutto il lavoro di Arcaide è oggi pubblicato sull'ADS e quindi ricondiviso e riscaricabile l'ADS e ora veramente corro perché vedo che il tempo scorre non è sicuramente l'unico per quanto forse il più famoso degli archivi che conservano dati archeologici in forma aperta c'è quello olandese quello svedese vi faccio veramente giusto vedere i principali o l'open context gestito dall'Alexander Archive Institute a Berkeley c'è il DAR o l'archivio canadese abbiamo anche degli esempi italiani quello che rilascia l'ICCD come in parte soprattutto come metà d'attazione e una serie di dati di sintesi del catalogo dell'ICCD e il MOD che è invece l'archivio ripositori open data proprio gestito dal nostro laboratorio nato nel 2012 peraltro in fase di re-ingegnerizzazione diciamo nella sua interfaccia quindi speriamo di ripresentarvelo insomma nel giro di qualche mese in una nuova veste gli stiamo ridando diciamo una vesta più aggiornata quello che la riflessione ecco proprio che vi vorrei fare in realtà un po' in chiusura e che ci porta poi a vedere progetti di più ampio respiro che vanno a ragionare sulle tematiche degli open data in archeologia su scala infrastrutturale e internazionale come Ariadne Plus o il Social Science and Humanities Open Cloud promosso dall'Unione Europea è proprio quello che ormai il riferimento non è più alla digitalizzazione dei dati diciamo che in chiave europea che era un po' il respiro di cui volevamo parlare non si parla più di digitalizzazione del dato archeologico del dato chiamiamolo così legato più in generale al cultural heritage bensì abbiamo fatto un passo avanti il Horizon 2020 che è il è stato no ormai è finito il programma quadro dell'ultimo degli ultimi sette anni finanziava e spingeva alla digitalizzazione dei dati del patrimonio culturale europeo promuoveva già l'open data come una forte possibilità aveva dato ormai per assodato l'open access e spingeva incentivava verso l'open data con un pilot specifico al quale si poteva aderire e che dava una premialità perché in sede di valutazione dei progetti europei era possibile ottenere un punteggio maggiore se si dichiarava di lavorare con dati che poi sarebbero stati condivisi come open data Horizon Europe che è il prossimo programma che partirà nel 2021 quindi per il prossimo settennato in realtà con diciamo nei draft che già girano del work program in fase diciamo ancora confidenziale ma comunque nell'indiscrezione su cui la comunità sta discutendo in realtà fa un passo avanti non va più a finanziare la digitalizzazione dei dati si dà per assodato che questo passaggio è stato fatto immagino che si darà anche per scontato che ormai tutta la comunità scientifica e la comunità che lavora sul dato culturale ha capito l'importanza delle open data quindi forse non sarà più un incentivo vedremo ma sarà un obbligo il fatto che i dati prodotti con un con un finanziamento europeo dovranno essere dati condivisi ovviamente per l'arqueologia italiana qui si potrà creare un problema nel senso che noi paghiamo un po' un ritardo storico in questo senso tutta la parte di digitalizzazione c'è per virgolette un po' sfuggita di mano a suo tempo nel senso che non abbiamo abbiamo non abbiamo dedicato così tanto così tanto tempo e così tanti fondi a rendere tutto il nostro patrimonio digitale e come abbiamo già detto questo non vuol dire aperto e non vuol dire già utilizzabile no readable in senso di machine readable ma perlomeno digitale quindi ci porrà forse questa sfida di dover recuperare in qualche modo questo gap che abbiamo accumulato negli anni che in realtà altri paesi dell'Unione hanno colto prima di noi quindi mettendo ad esempio come obbligatori certi tipi di di formati di consegne dei materiali archeologici cosa che da noi in realtà si è stentato a fare lo si è fatto con difficoltà inoltre dovremo colmare sicuramente un gap culturale un gap di mentalità perché per quanto siamo anche oggi qui a parlare di open data io personalmente continuo a vedere che di open data archeologici in giro italiani ce n'è pochi quindi in realtà sono fioccati negli anni i momenti di dibattito di confronto cosa che ovviamente prima non avveniva e quindi siamo tutti contenti però poi sono mancati i dati perché in realtà le cose quello su cui dovremmo discutere dovrebbero essere i dati cioè avendoli quindi a disposizione di tutti per confrontarsi perché come diceva Mariana all'inizio il dato poi serve a discutere delle interpretazioni discutere delle ipotesi che sono state fatte non solo del dato in sé ma anche di quelle che sono state le posizioni dei vari ricercatori quindi Sauro Gelichi quando ha introdotto questa giornata ha detto che finalmente fino ad ora insomma abbiamo vissuto una gestione quasi monopolista monopolistica del dato e discrezionale da parte del singolo ecco sicuramente quello che l'Europa ci chiede quello che l'Europa chiede all'Italia è di uscire da questa dinamica perché non sarà assolutamente più possibile poter lavorare in questa modalità addirittura appunto siamo già in ritardo quindi dobbiamo recuperare affinché i nostri dati possano essere condivisibili quindi già digitali e già datificati come direbbe Gabriele sicuramente abbiano fatto già quel passaggio per cui non solo li possiamo leggere in forma digitale ma li possiamo lavorare e lavorare quindi questo sarà probabilmente la sfida principale che dovremmo affrontare con l'Europa nel prossimo settennato per poter stare al passo con quello che saranno i finanziamenti che l'Europa ci darà Horizon Europe si pone già in maniera più restrittiva rispetto a Horizon 2020 verso il Cartel Array Heritage le sfide legate al patrimonio diciamo hanno ricevuto in sede di discussione e di strategia complessiva dell'Unione meno spazio rispetto al precedente programma in più ci sono stati necessariamente tutta la serie di tagli al finanziamento dovuti all'emergenza sanitaria quindi dovremmo veramente entrare in questo in questa modalità riuscire a colmare questo passaggio che sul quale purtroppo finora siamo rimasti un pochino indietro abbiamo sicuramente delle eccellenze dei grandi buoni prodotti in termini digitali di sviluppo di ricerca ma anche di professionalità sul campo ma abbiamo bisogno di cambiare la mentalità delle persone affinché non si continui solo a parlare di open data ma si faccia veramente open data in archeologia con i dati mettendo i nostri dati a disposizione degli altri non so se Gabriele vuole ok no no non ho da aggiungere nulla lascio giustamente lo spazio a chi deve parlare dopo grazie Francesca grazie Gabriele sì Francesca ne potremo parlare nel pomeriggio perché sono davvero dei temi ci hai lanciato proprio una sfida e direi che noi archeologi ne abbiamo davvero tanto di lavoro da fare quindi insomma grazie se avete delle domande brevissime altrimenti ci spostiamo al pomeriggio per le domande quindi se avete per loro delle domande brevissime da fare magari o anche in chat se volete scrivere qualcosa in cinque minuti possiamo dedicarvi insomma ecco buongiorno mi chiamo Rita Maria Bucciarelli chiedo scusa chiedo scusa perché oggi i saperi terribilmente ci isolano perché in effetti ci sono delle competenze che due minuti non voglio perdere tempo il materiale il materiale che avete prodotto è possibile averlo come di solito accade in tutti nei vostri incontri io sono una linguista computazionale me lo dico subito e sto lavorando sulla creazione di metadate per il testo poetico Dante Alighieri e quindi è una cosa nuovissima mi interessa proprio il processo informatico sicuramente sì diciamo noi in genere se ce ne fate richiesta ma volentieri diciamo se ce lo richiedono anche gli organizzatori in genere mettiamo a disposizione le slide che facciamo liberamente nel senso che c'era questo che volevo non c'è problema poi diciamo tutto quello che noi pubblichiamo è tutto open access e lo trovate sul sito del nostro laboratorio che è mappalab.eu può scaricare tutto pubblicazioni e lì diciamo tutto quello che c'è è open e quindi ognuno lo può scaricare grazie grazie mille molto interessante grazie buona giornata grazie bene grazie ancora a voi io vi ho inserito il link in chat di mappalab e allora vi facciamo presente che potete comunque prenotarvi per il pomeriggio se volete intervenire con altre esperienze attività eccetera potete comunque inserire il vostro nome qui in chat e così possiamo poi scrivercelo insomma e poi rivederci dopo lascerei la parola ad Eleonora adesso per presentare Caterina sì buongiorno va beh ringrazio moltissimo i colleghi in realtà del mappa perché l'intervento è stato molto interessante e molto stimolante mi ricordo quando abbiamo fatto la prima open school di open data ed è stato veramente non so ecco vedo Gabriele che annumisce è stato veramente un bel momento per me anche molto formativo e speriamo di poter andare avanti e che questo nuovo horizon ci porti molte soddisfazioni ecco da questo punto di vista quindi grazie ancora spero che poi nel pomeriggio magari ne parleremo ancora un pochino anche se non ci sarete vi ricorderemo ecco dunque io devo parlarvi di questo cambio di programma abbiamo Caterina Balletti che è professoressa all'Università UAB di Venezia che gentilmente ha accettato di parlare oggi al post di Giuseppe Naponiello su una tematica a cui io tengo molto e che volevo fosse presente in questa mattinata Caterina è professoressa appunto di cartografia GIS rilievo strumentale quindi geomatica per gli architetti ma il laboratorio in cui lavora si occupa da direi anni decenni di beni culturali e in particolare di archeologia quindi la prospettiva interdisciplinare che oggi lei ci dà con la sua presentazione è fondamentale perché ci parla di tipi di dati con cui gli archeologi oggi hanno a che fare sempre di più i dati geografici e i dati 3D chiamiamoli così quindi io le lascio la parola la ringrazio molto ovviamente vorrei citare in realtà la collaborazione con lo scavo di Altino perché il laboratorio Circe e la campagna di scavo diretta dal professor Sperti lavorano ormai in località ghiacciaia e il loro apporto è veramente fondamentale quindi grazie Caterina ti lascio la parola grazie all'onore condivido subito lo schermo così volevo anche fare i complimenti per la presentazione che mi ha preceduto perché devo dire che sulla questione dell'open data anche noi che ci occupiamo di rilevamento alcune volte abbiamo avuto delle difficoltà di interazione con alcuni colleghi archeologi non i presenti ovviamente ma perché questa difficoltà nell'apertura della messa a disponibilità a disposizione scusate dei dati avrebbe potuto dare origine a dei progetti di ricerca che in passato sono stati invece fortemente limitati e vincolati proprio dal fatto in cui perché le persone i colleghi con cui collaboravamo non avevano questa apertura mentale per cui ci hanno permesso di creare dei benchmark sui dati rilevati che potevano essere occasione di studio e di coinvolgimento anche di altri ricercatori detto ciò procedo con la mia breve presentazione come ha già introdotto Eleonora io mi occupo di scusate che adesso non vedo più eccoci mi occupo di mi occupo di tecniche di rilevamento che vanno dal rilievo archeologico giusto per ricordare quello che di cui stiamo parlando oggi fino a rilievo del territorio controllo di strutture insomma il rilievo è sicuramente una delle discipline ancillarie che danno supporto a molte forme di analisi e quindi si interfaccia anche con tante altre discipline tra cui appunto l'archeologia perché geomatica perché geomatica in realtà è un termine nuovo che devo dire la verità a noi del settore disciplinare Ica06 alcune volte non piace tantissimo perché ha un po' sdoganato alcuni metodi strumenti che appartenevano ad un pubblico fin troppo ampio che cosa vuol dire geomatica geomatica significa coniuga diciamo quelle che sono le conoscenze appunto delle scienze del rilevamento con l'ambiente informatico questo è inevitabile perché poi il passaggio al digitale ha segnato ancora di più la necessità appunto di questa collaborazione questa integrazione tra quelle che erano le conoscenze appunto scientifiche della topografia della geodesia quindi delle scienze del rilevamento della della terra con appunto l'ambito informatico ovviamente all'interno della geomatica si parla anche di beni culturali perché sicuramente le nostre discipline possono dare un contributo molto importante soprattutto nella fase di indagine quindi di conoscenza di documentazione di valorizzazione e oggi si inizia a parlare anche di comunicazione ossia ci interfacciamo non solo con la con la parte di acquisizione ma anche con la fase successiva che riguarda appunto la fruizione di quelli che sono i dati che noi andiamo a raccogliere e che serve poi per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale quindi in particolare la geomatica nell'ambito del rilevamento in campo archeologico ha diversi scopi tra cui innanzitutto la documentazione rigorosa dei siti sia in modalità statica che in modalità dinamica cosa significa che noi possiamo semplicemente acquisire dei dati e che danno una documentazione danno un'immagine in un preciso momento però diventa ancora più interessante appunto citando il caso di Altino come ha detto Eleonora anche la possibilità di avere diciamo proprio un monitoraggio in continuo di quello che succede all'interno di un sito o di uno scavo fornisce il supporto metrico per tutta una serie di interventi perché la misura è la è la bc praticamente per iniziare poi a comprendere l'oggetto che stiamo analizzando e quindi poi decidere come intervenire il monitoraggio appunto per poter sostenere quelle che sono le politiche di conservazione e di intervento e anche quindi gestione nel tempo di questi oggetti che mi viene da citare così al volo un altro termine che ha preso piede sia nell'ambito architettonico che quello archeologico ed è il BIM cioè il Building Information Model cioè un sistema informativo che però è più alla scala architettonica e quindi anche nell'ambito archeologico può avere un suo utilizzo e può servire appunto come monitoraggio di uno stato attuale ma anche per la definizione di interventi futuri che possano permettere appunto la conservazione di quello che è un sito supporto all'attività diagnostica avevo già detto con diverse tecniche ovviamente le tecniche che noi andiamo ad adottare sono tecniche molto differenti nel senso che così come vedremo nella presentazione di oggi è un po' difficile andare a schematizzare in questa determinata situazione posso utilizzare questo strumento o intervengo con questo metodo perché ogni situazione è un caso particolare il rilievo deve essere sempre fortemente indirizzato rispetto a quelle che sono le caratteristiche dell'oggetto che stiamo per rilevare il contesto in cui si opera perché ovviamente ci sono dei problemi spesso legati alla logistica e poi a quello che è il prodotto che si vuole ottenere cioè quali sono i dati che vogliamo poi ottenere e che servono conseguentemente ai nostri amici archeologi o a chi appunto dovrà utilizzarli e per ultimo vi ho citato anche la replica di opere tramite macchine a controllo numerico perché proprio nell'ottica di andare ad analizzare anche quelle che sono le forme più attuali di comunicazione di fruizione del nostro patrimonio negli ultimi anni è entrato anche l'utilizzo delle stampanti solide allora nel momento in cui ci si chiede di realizzare una replica è proprio nell'animo del fotogrammetra del topografo quella di andare a valutare quella che è la precisione con cui noi poi andiamo a replicare questi oggetti perché una cosa che è fondamentale è il fatto che i dati che noi acquisiamo devono essere si trattati ma devono essere sempre collaudati e validati perché nel nostro nel momento in cui svolgiamo un rilievo non possiamo non considerare quella che è la precisione per cui andiamo a farlo per cui l'affidabilità dei dati che poi noi trasferiamo agli altri e proprio in ragione di quella che è la precisione e appunto anche di quelle che sono le scelte metodologiche operative che noi andiamo a fare dobbiamo andare a considerare i diversi livelli di dettaglio che noi andiamo ad affrontare nelle nostre attività parliamo di una scala micro nel momento in cui ci occupiamo di quelli che sono piccoli reperti all'interno di un sito archeologico quindi un'area molto circoscritta quindi con elementi che poi devono essere musealizzati o comunque devono essere archiviati e allora qua siamo all'interno della scala dell'oggetto quindi in base a questa tipo a quelle che sono le tipologie dell'oggetto andremo a individuare quelle che sono le tecniche di rilievo più opportune poi abbiamo una scala semi micro che invece è orientata alle problematiche intrasito per cui andiamo a analizzare anche le diverse unità che compongono appunto il sito considerato e quindi andiamo ad ampliare quello che è l'ambito di della documentazione e poi c'è la scala macro che riguarda invece il territorio perché molto spesso non si può non considerare quello che è l'inquadramento quello che è il luogo dove noi andiamo a ritrovare determinate presenze e quindi abbiamo la necessità di mettere in relazione anche la scala micro quindi l'oggetto con quelle che sono le vicinanze o comunque con le relazioni con il territorio stesso vi dicevo che in realtà risulta molto difficile riuscire a fare una schematizzazione drastica rispetto a quella che è la scala scelgo la determinata tecnica il determinato metodo questa è una schematizzazione che appunto si può trovare in letteratura e che chiama alcune tecniche alcuni metodi rispetto appunto a quelle che sono le estensioni le caratteristiche proprio dell'oggetto però è ovvio che nel momento in cui noi dobbiamo intervenire inevitabilmente preferiamo quello che è un atteggiamento che prevede l'integrazione tra le varie tecniche di rilievo e quindi la possibilità anche di fornire un rilievo multiscala che appunto in ambito archeologico diventa fondamentale e poi appunto come vi dicevo prima dobbiamo considerare quelli che sono gli esiti attesi e anche quella che è l'estensione dell'area che andiamo a considerare generalmente i metodi di rilevamento le tecniche di rilevamento che vengono chiamate in causa quali sono? Beh innanzitutto la topografia sia terrestre che da satellite dal segmento spaziale perché la topografia fornisce quello che è il sistema di riferimento quindi noi non possiamo parlare di di dati se non li colleghiamo a una loro posizione quindi la definizione del sistema di riferimento del sistema di coordinate all'interno del quale noi andiamo a operare è fondamentale e questo viene fatto attraverso il metodo forse più tradizionale che è la topografia la fotogrammetria invece è una tecnica che in realtà nasce per proprio per la realizzazione di cartografie quindi per conoscere il territorio e solo attorno gli anni 60 è stata poi applicata a quelle che sono quella che è la fotogrammetria dei vicini il close range fotogrammetry applicato quindi ai beni culturali e ho il piacere di ricordare che i laboratori di fotogrammetria della della mia università quindi dallo IUAV è uno dei primi in Italia che si è occupato appunto di fotogrammetria applicata ai beni culturali per cui sento di dire che magari non io ma il laboratorio vanta una lunga esperienza e poi aggiungerei le tecniche leader ossia il laser scanner ossia cosa significa strumenti che mi permettono di acquisire milioni di punti rispetto ad un oggetto un territorio chiamiamo proprio una superficie diciamo una superficie che poi possono essere il punto di partenza per diversa elaborazione perché e soprattutto per la realizzazione di modelli tridimensionali visto che sempre più diciamo che si si è spostati verso appunto la tridimensionalità la richiesta di una documentazione tridimensionale piuttosto che alle documentazioni più canoniche tradizionali bidimensionali quindi le più classiche proiezioni ortogonali questo perché ci permette di ottenere delle informazioni più collegate tra di loro nelle slide che andremo a vedere ho cercato di sintetizzare un pochino quelle che sono appunto le tecniche e gli strumenti della geomatica e quindi faremo un veloce accenno anche a quello che riguarda il telerilevamento e l'uso di dati multispettrali qui parliamo appunto di immagini che prese da satellite con delle caratteristiche ben precise cioè non sono l'equivalente di un'immagine fotografica bensì appunto vado a analizzare quella che è l'energia che viene emessa e riflessa dalle superfici che vengono appunto colpite da questo segnale e sulla base della risposta e quindi a seconda del tipo di sessore che vado a utilizzare registro un tipo di informazione che può essere molto importante soprattutto per dare supporto a tutta una fase successiva di analisi che può riguardare ad esempio il survey e quindi integrando poi quelli che sono i dati multispettrali e i perspettrali che noi registriamo noi andiamo ad acquisire con la tecnica del telerilevamento per supportare poi delle forme di indagine direttamente sul luogo quindi per intervenire in maniera più puntuale alcuni casi sempre che possono essere facilmente ritrovati in bibliografia io cito spesso lavori di colleghi italiani che appunto collaborano con archeologi di altre università o con il CNR come ad esempio il gruppo di Bologna con il professor Vitelli e il professor Vittuari che anche loro da anni si sono occupati di archeologia e hanno avuto la possibilità anche di seguire casi internazionali molto importanti qua qua siamo in Iran e è l'analisi di un sito che ha subito un forte danneggiamento in seguito a un terremoto nel 2003 e le immagini che noi vediamo hanno risoluzioni differenti ma anche lavorano su bande differenti quindi l'image processing quindi il trattamento di queste immagini utilizzando appunto delle analisi si chiamano oggetti orienti che estraggono le informazioni dalla feature che si leggono direttamente da queste immagini possono mettere in evidenza anche quelle che sono le trasformazioni in seguito ad un particolare evento e quindi possono fornire delle informazioni importanti proprio per la conoscenza di questi luoghi qua siamo invece in Peru e le immagini che noi vediamo rappresentano appunto un approccio multiscale multisensoriale si analizza appunto quello che è il bacino di drenaggio del fiume Nasca utilizzando i dati ottenuti per costruire un DTM cioè un modello digitale del terreno a diverse risoluzioni proprio a partire da quelle che sono le caratteristiche dei diversi sensori utilizzati quindi si ha un sensore a 90 metri a 30 metri 15 metri fino ad arrivare poi dall'immagine quick bird quindi abbiamo una risoluzione che va dai 70 ai 30 centimetri per fare delle analisi più mirate più specifiche proprio nell'area del sito che riguarda appunto la zona cerimoniale e che evidenzia appunto quelle che possono essere delle tracce su cui poi basare le successive campagne di scavo altri casi applicativi ci spostiamo ad Aquileia e appunto anche in questo caso vediamo l'integrazione invece tra i dati MIVIS i perspettrali e altri dati i perspettrali e l'interazione con i dati LIDAR quindi ottenuti attraverso un rilievo laser scanning aereo quello che si ottiene anche in questo caso è un modello digitale del terreno in questo caso vedete che viene anche attribuito a un fattore di scala diverso giusto per amplificare quella che è quella che è la morfologia poi della superficie rilevata perché proprio attraverso questi segni queste anomalie che si riscontrano poi sulla superficie si possono individuare delle strutture che non sono chiaramente visibili da una ricognizione a terra passiamo quindi alla fotogrammetria la fotogrammetria vi dicevo è un metodo di rilievo una tecnica che si sviluppa in realtà alla fine dell'ottocento proprio in seguito al consolidimento della tecnica fotografica e anche allo sviluppo della dell'aviazione e quindi si è compreso praticamente che acquisendo delle immagini del territorio dall'alto si poteva ottenere si poteva ottenere una mappatura appunto del territorio e in realtà fin da subito questo metodo viene utilizzato anche per la documentazione dei luoghi di cultura vi ricordo che il primo uno dei primi fotopiani quindi una cartografia realizzata con il metodo fotogrammetrico è stata svolta proprio qui a Venezia nel 1911 utilizzando come sistema di acquisizione quindi non con un aereo bensì con una sorta di dirigibile che veniva trascinato da una zattera lungo i canali e questo dirigibile sollevava una camera metrica da cui poi erano stati fatti i fotogrammi ma non solo ma nello stesso periodo abbiamo appunto l'esempio del rilievo nei fori di Roma realizzato appunto dalla sezione aerostatica del genio militare la fotogrammetria è una tecnica che si basa sull'utilizzo di immagini a partire da immagini io ottengo coordinate di punti e quindi diciamo che è un sistema decisamente più come si può dire priva di discretizzazione nella fase di acquisizione perché nel momento in cui io svolgo un rilievo topografico o con un altro tipo di strumentazione è l'operatore che decide quali sono i punti che devono essere rilevati ecco invece con la fotogrammetria si acquisisce una marea si acquisiscono moltissimi moltissimi dati ed è poi nella fase successiva di interpretazione che si va a decidere quali sono i contenuti che si vogliono estrarre vi riporto poi altri esempi storici appunto in Egitto e anche questa immagine vi fa vedere che in realtà per sollevare una macchina fotografica si sono utilizzati gli strumenti più disparati per cui dal pallone frenato gli aquiloni come si vede appunto in questa immagine ma e oggi con i droni ma è l'evoluzione della tecnologia proprio per farvi vedere quella che è la lunga amicizia con con Ca' Foscari con il professor Sperti in particolare ho riportato questo esempio il rilievo del sito di Laodicee in Turchia il rilievo che il laboratorio di fotogrammetria ha fatto tra il 94 e il 98 in collaborazione con il professor Traversari e con il professor Sperti allora non c'era ancora una concessione di scavo ma c'era la necessità appunto di produrre una carta archeologica che potesse mettere in evidenza appunto le caratteristiche del sito e individuare appunto quale aree potevano essere scelte per iniziare appunto le campagne di scavo è un lavoro che è stato fatto con la fotogrammetria aerea quella più classica per cui acquisendo una serie di fotogrammi d'aereo secondo una disposizione geometrica una disposizione di acquisizione che segue una geometria rigorosa proprio indicata per la fotogrammetria da qui si ottengono appunto una serie di fotogrammi i fotogrammi compongono il modello fotogrammetrico e da questo noi possiamo ottenere appunto un modello digitale cioè una serie di punti che mi descrivono il luogo di laudicea o altrimenti come vediamo in questo in questa slide un ortofoto quindi una cartografia una rappresentazione in scala e che coniuga quello che è il contenuto geometrico e il contenuto informativo dell'immagine fotografica alla base di questo appunto c'era la realizzazione di una rete topografica di inquadramento fatta tutta da terra in quel caso con un DTM cioè la nuvola di punti i punti che sono stati battuti per ottenere il modello digitale del terreno che vedete rappresentato nella fascia inferiore di questa slide è un rilievo è una è stato eseguito attraverso l'integrazione tra il metodo fotogrammetrico e il metodo topografico però è un metodo escluso totalmente manuale e questo per sottolineare poi la differenza con la tecnica leader quello che è stato prodotto è non solo la carta archeologica appunto del sito ma anche il rilievo ad una scala opportuna quindi una scala 1 a 50 mi pare 1 a 20 di quelle che erano le emergenze del sito così come si può vedere appunto da da queste immagini con una parte ovviamente di interpretazione ricostruizione che è stata ovviamente validata e valorata dalla collaborazione appunto con il professor Traversari del professore Sperti e qui vediamo appunto la sovrapposizione tra la cartografia vettoriale quella raster quindi fotografica proprio per evidenziare quelle che sono le ciò che era visibile appunto negli anni 90 in questo sito oggi l'Odicea è stata scavata e quindi ha un aspetto completamente diverso anzi è una città bellissima che può essere ammirata passiamo invece a una fotogrammetria quota ridotta quando si parla di quota ridotta quando in realtà noi abbiamo necessità di arrivare a quella scala intermedia tra la scala territoriale e la scala architettonica e questo fino a poco tempo fa era possibile attraverso l'uso appunto di palloni frenati o di kite a seconda delle condizioni in cui si opera perché nell'immagine che voi vedete riporto appunto due casi studio differenti quello in egitto dove appunto si fa uso dei kite perché in realtà il sito era un sito ventoso per cui si poteva sfruttare la presenza del vento per sollevare questi aquiloni che trascinavano che trasportavano l'apparecchiatura fotogrammetrica nel caso invece di grumentum è stata una sperimentazione che abbiamo voluto fare poco quanti anni fa una quindicina di anni fa ormai con un pallone frenato proprio perché avevamo necessità di ottenere una rappresentazione delle piante delle ortofoto anzi in scala 1 a 200 1 a 100 di quelli che erano i tempi dei luoghi riconoscibili appunto nella città di Grumentum e per cui si era utilizzato questo pallone frenato e vi ricordo con non poche difficoltà perché nel momento in cui si alzava un po' di vento il pallone seguiva appunto la corrente e quindi si avevano non poche difficoltà nell'acquisizione dei fotogrammi lo schema delle immagini acquisite vedete che è uno schema molto diverso rispetto alla geometria rigorosa che avevamo visto nel caso di l'Odicea oggi è cambiato tutto oggi ci sono i droni per cui ci si può sollevare con estrema facilità non si ha bisogno di una in realtà è una strumentazione molto semplice è una strumentazione a low cost quindi alla portata di tutti quanti che cosa cambia fondamentalmente cambia la strumentazione non si usano più camere metriche cioè non si usano più macchine fotografiche realizzate esclusivamente per il rilievo fotogrammetrico ma noi possiamo utilizzare una qualsiasi camera amatoriale per questo abbiamo fatto visto che è facile far volare un drone è facile fare delle immagini dall'alto però proprio perché dobbiamo sempre validare quelli che sono i dati che noi andiamo ad acquisire abbiamo fatto degli studi appunto per comprendere quella che è la precisione che può essere ottenuta utilizzando delle camere amatoriali che possono essere delle compatte fino all'utilizzo delle action camera che sono appunto come la GoPro cioè macchine che sono molto leggere per cui si prestano per l'utilizzo sui droni inoltre la possibilità di coniugare action camera con i droni che vengono ritenuti giocattolo fa sì che alcune limitazioni che noi abbiamo proprio per eseguire i voli possono essere superate ovviamente con tutte le accortezze che riguardano appunto la sicurezza dove si sta operando e qui vediamo appunto lo studio che è stato fatto nella città di Sepino in Molise qualche anno fa dove appunto abbiamo confrontato i due segmenti con il drone appositamente appositamente realizzato per il rilievo fotogrammetrico con una camera compatta però con ottica calibrata e invece il drone della Parrot perché in quel momento era uno dei primi modelli della Parrot che uscivano sul mercato montato con una GoPro avevamo fatto l'accrocchio cioè il sistema di ancoraggio del Parrot e della GoPro direttamente in casa utilizzando la stampa 3D quindi coniugando tutte le nuove tecnologie che avevamo a disposizione in laboratorio ma nell'immagine che voi vedete questa qua del modello fotogrammetrico che viene visualizzato vi fa capire come è cambiato anche l'ambiente di processamento dei dati cioè in passato si utilizzavano dei restrittori analitici e quindi c'era la necessità anche di avere un personale tecnico specializzato non solo nella fase di acquisizione ma anche nella fase di restituzione oggi la fotogrammetria digitale soprattutto la fotogrammetria multiimmagine rende molto più semplice il processo di restituzione ed è per questo che essendo molto più semplice la verifica e il controllo della precisione deve essere ancora più rigorosa e presente in una fase di nel momento in cui si acquisiscono i dati rilevati qui vediamo appunto alcune immagini la cosa interessante è che in realtà proprio ve lo dicevo all'inizio non c'è un metodo che viene favorito in un rilievo bensì l'integrazione di più metodi e questa integrazione è possibile appunto perché abbiamo la topografia che ci dà il sistema di riferimento all'interno del quale agiamo anche nel caso di Seppino è stato fatto un rilievo da drone integrato con un rilievo laser scanning da terra per cui quello che si ottiene sono delle nuvole di punti che sono georeferenziate nello stesso sistema e quindi possono essere unite si può fare un merge tra le due nuvole in maniera tale da avere un modello ancora più denso eliminare quelle che sono le possibili lacune e quindi ottenere un prodotto finale molto molto più non voglio dire preciso perché la precisione sta a monte però più ricco di contenuti e quindi di informazioni ecco questi sono altri esempi dove appunto si ritorniamo alla fase di definizione del sistema di riferimento possiamo fare con la topografia da terra ma anche con misure GNSS ossia con misure satellitari queste possono essere ovviamente realizzate autonomamente ossia posso appoggiarmi solo esclusivamente su un rilievo GNSS devo dire che oggi nel nostro settore si parla molto anche di sistemi di acquisizione low cost che ti permettono anche dei rilievi speditivi e quindi che si risultano essere particolarmente adatti in alcuni contesti non proprio semplici e non proprio facili nell'accesso o altrimenti come nel caso appunto sempre di questo sito in Perù o altrimenti nel caso sia di Grumentum e di Sepino per riportare delle esperienze applicative proprio svolte all'interno del laboratorio di fotogrammetria dello Uav e che sono stati poi oggetto anche di scuole estive quindi che hanno visto il coinvolgimento degli studenti per poter apprendere appunto questi metodi dove vediamo che c'è un'integrazione anche tra misure topografiche da terre e misure da satellite cosa che diventa molto importante nel momento in cui abbiamo un sito che ha una certa estensione e quindi l'esecuzione di un'unica rete topografica da terra richiederebbe tempi di esecuzione molto lunghi e quindi il rilievo GPS mi permette appunto di poter dialogare luoghi distanti tra di loro ma comunque georiferenziarli rispetto allo stesso sistema anche in questo caso vediamo il caso di Aquileia svolto dai nostri colleghi della Politecnico di Torino ma anche poi lo vedremo comunque ne parlerà non so probabilmente Eleonora anche nel caso di Altino e anche in questo anche per Altino abbiamo fatto appunto sia un appoggio GPS che un appoggio topografico proprio per ragionare sul territorio e poi fornire dei dati georiferenziati che potevano essere implementati in InGIS Parliamo dell'altro di un ulteriore metodo di rilievo che è il laser scanning il laser scanning che cos'è? In realtà il laser scanning è l'evoluzione di uno strumento topografico perché che cosa acquisisce il laser scanning? angoli e distanze quindi è l'equivalente di una stazione totale solo che lo fa in maniera automatica cioè ne raccoglie tantissimi milioni di punti anche in questo caso non possiamo indicare quali sia il laser scanner più adatto per l'archeologia quello più adatto per l'architettura perché ogni situazione richiede delle caratteristiche molto diverse per cui anche nel caso dei laser scanning sia terrestri che aerei ci sono diverse soluzioni in realtà poi fanno parte della famiglia dei laser scanning anche i laser scanner a triangolazione cioè si distinguono i laser scanner sulla base del principio di acquisizione delle distanze della determinazione della posizione dei punti allora possiamo dire che esistono due grandi categorie quelli distanziometrici che ci servono per il rilievo del territorio quindi per la realizzazione del DTM che si integrano con i dati per spettrali poi ci sono i laser scanner distanziometrici terrestri che servono appunto per il rilievo dei siti e poi abbiamo dei laser scanner che si basano sul principio della triangolazione che vengono utilizzati invece per il rilievo di piccoli oggetti per i reperti perché appunto sono più assicurano delle precisioni più adatte a questo qui siamo tornati in Basilicata Grumentum nella parte dell'anfiteatro l'anfiteatro è stato oggetto di studio qualche anno fa anche con il professor Sperti proprio perché è sopravvissuto nella modalità di pianta mi piace definirlo così nel senso che proprio guardandolo dall'alto noi leggiamo quella che è la pianta del livello più basso dell'anfiteatro e allora proprio a partire dai dati metrici e materici acquisiti nella campagna di rilievo si sono fatte una serie di ricostruzioni facendo delle analogie studiando appunto la tipologia architettonica e facendo delle analogie con altri anfiteatri e qui appunto vedete quella che è la ricostruzione ecco qui ho riportato anche il caso dell'Arena di Verona perché ci ha visti interessati nella campagna di misure per un decennio abbiamo iniziato nel 98 e le ultime misure le abbiamo fatte nel 2002 in questa immagine vedete appunto forse quelle che sono le fasi successive del rilievo che è stato fatto si è partiti appunto da un piccolo settore da tre arcovoli si è realizzata subito una rete topografica di inquadramento all'interno all'esterno dell'Arena di Verona che è servito proprio come gabbia e ancoraggio per tutte le successive fasi di misurazione e ci si è occupati non solamente della parte esterna quindi del paramento esterno della cavea ma anche di tutti gli spazi ipogei che si trovano al di sotto della cavea mettendo in relazione appunto spazi ipogei con quelli che sono gli spazi esterni attraverso l'integrazione di fotogrammetria e laser scanning e ovviamente topografia bene passiamo ai GIS perché i GIS piacciono molto agli archeologi perché servono appunto per sono come dei grandi contenitori all'interno del quale noi possiamo portare dati assolutamente eterogenei che una volta posizionati quindi la definizione appunto del sistema di riferimento anche in questo caso diventa fondamentale possono essere appunto interpretati e fornire delle informazioni importanti anche per continuare quelli che sono gli studi di casi applicativi ce ne sono moltissimi appunto qui riporto Ierapolis sempre fatti dai colleghi del Politecnico di Torino qualche anno fa avevo visto la presentazione di questo progetto Visual Versilia dove si utilizzava il GIS non solo per la parte di come si può dire di archiviazione di quelli che sono i dati ma anche di promozione dei luoghi della Versilia quindi di comunicazione di fruizione proprio a partire da un sistema web GIS che potesse essere consultato anche da un pubblico assolutamente eterogeneo non solamente dagli studiosi ma anche appunto da curiosi e interessati e poi abbiamo appunto il lavoro che sta svolgendo Eleonora su Altino è da qualche anno che appunto stiamo collaborando insieme qui vedete appunto l'individuazione di quelli che sono i dati del survey e poi l'integrazione con quelle che sono le mappature ottenute appunto da un rilievo a terra laser scanning inserito ovviamente in un unico sistema informativo che continuerà a raccogliere informazioni e che si evolverà prossimamente anche con un contenuto si spera anche tridimensionale giusto per iniziare a dialogare con altri ambiti di ricerca e poi vi ho riportato questo esempio questo è un esempio è il Mercur probabilmente lo conoscete sito relitto che è stato studiato dal professor Beltrame con cui noi abbiamo collaborato qualche anno fa sia come supporto per proprio per la questione legata a legacy data perché la restituzione di quelli che sono i dati che sono poi stati riportati all'interno del sistema informativo sono stati ottenuti utilizzando sequenze fotografiche acquisite nel corso degli anni quindi anche immagini fotografiche che non erano state acquisite per la pura documentazione non proprio per la restituzione di un rilievo fotogrammetrico ma vedete come i dati del relitto sono stati poi inseriti all'interno di un sistema informativo che è stato utilizzato per una installazione interattiva all'interno del museo di Caorle oggi se andate a visitare il museo non so probabilmente qualcuno ci è già andato ma vi consiglio appunto una visita proprio perché il percorso espositivo coniuga la conoscenza archeologica con quelle che sono le conoscenze legate al rilevamento e quelli che sono i nuovi sistemi di comunicazione digitali per cui dall'uso di superfici tattili che possono essere interrogate a touch screen piuttosto che repliche su cui viene fatto il videomapping proprio per andare a ottenere una modalità di fruizione aumentata anche per un pubblico di non-specialisti qui vediamo altre immagini della il reletto del Mercur ci ha dato lo spunto appunto per parlare di archeologia subacque e quindi sottolineare questa collaborazione con il professor Beltrame anche l'archeologia subacque ha avuto una sua evoluzione dagli anni 90 ad oggi proprio grazie a quelli che sono le nuove tecnologie per cui noi che ci occupiamo di fotogrammetria preferiamo parlare di structure from motion piuttosto di fotogrammetria digitale perché in realtà sono software che vanno a implementare algoritmi che nascono per la computer vision con quelli che sono i principi analitici della fotogrammetria e quello che si ottiene appunto è un ambiente di lavoro di restituzione che ci permette di essere un po' più snelli nella fase di acquisizione è ovvio che per aumentare quella che è la precisione che rimane per noi appunto uno degli obiettivi fondamentali è necessario fare un trattamento dei dati e questo trattamento dei dati riguarda anche la fase di calibrazione ossia è vero che possiamo fare un rilievo utilizzando una qualsiasi apparecchiatura quella che risulta essere più adatta proprio per il contesto in cui noi andiamo a operare però è anche vero che dobbiamo andare a fare un trattamento di questa strumentazione per verificare quali siano le precisioni ottenibili per cui in questa immagine vedete tutti i diversi sistemi di calibrazione che possono essere utilizzati direttamente nella fase di acquisizione in acqua perché voi sapete bene che se noi andiamo a calibrare il nostro sistema ottico la nostra fotocamera all'asciutto non andiamo a considerare tutta una serie di sistematismi e di errori che possiamo avere invece nel momento in cui ci troviamo appunto immersi nell'acqua giusto per farvi capire che noi siamo ossessionati dal sistema di riferimento questo è il caso di Granitola è un sito che ha una profondità abbastanza contenuta per cui siamo riusciti a fare un appoggio topografico GPS andando a utilizzare una una palina che raggiungeva superava i tre metri su cui abbiamo appoggiato il ricevitore e quindi siamo andati a fare un appoggio GPS anche di questo sito archeologico questi sono i dati restituiti sono elaborati da Elisa Costa che appunto è assegnista di ricerca presso Ca' Foscheri collaboro appunto con il professore Beltrame e queste sono appunto le restituzioni che noi possiamo ottenere vado verso la conclusione questi sono altri casi applicativi anche nel caso di reperti fossili questo è lo scheletro il cranio di una tigre nei denti a sciabola questo può essere il punto di partenza per una ricostruzione anche legata appunto alla ottenere dell'informazione sull'animale che appunto è stato ritrovato in forma fossile e poi ritornando appunto altri reperti fossili qui è il caso di una pistola che era stata trovata all'interno del Mercur qui vediamo appunto il rilievo fotogrammetrico con una veloce georeferenziazione la fase di processamento e poi arriviamo fino alla costruzione della replica replica della pistola così come è stata trovata nel sito subacquea e quindi poi è stata replicata in maniera tale che potesse essere più facilmente fruibile rispetto all'originale ed è stato il punto di partenza per questa animazione che voi vedete in realtà era un video un video mapping quindi interagiva proprio con le repliche prototipate per cercare di esprimere e di raccontare appunto il lavoro che era stato fatto rispetto all'acquisizione di questi dati nel sito sommerso e quindi dare la possibilità a tutti appunto di comprendere meglio il racconto che viene che era dato all'interno di un percorso espositivo io concluderei con questo sono andata forse un po' troppo lunga grazie no ma ti abbiamo lasciato andare perché era molto interessante e soprattutto così è stato è stato completo tra l'altro accogliamo volentieri l'invito di andare a vedere il museo a Caorle sperando che riampra a breve e salutiamo e ringraziamo anche Elisa Costa che ho visto ci sta seguendo così giustamente l'ho citata ecco beh interessantissimo tutto io volevo solo fare farti una domanda un po' più metodologica la geomatica a tutto quello che ci hai raccontato hanno dato all'archeologia veramente gli strumenti per fare un passo avanti che negli ultimi anni negli ultimi decenni abbiamo visto abbiamo vissuto e che è innegabile secondo te due domande uno vale anche il contrario cioè lavorare su archeologia e benicolazione chi si occupa di geomatica è stimolante nel senso che pone davanti a sfide nuove ma la 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 conoscenza multidisciplinare è sempre stimolante no perché noi arriviamo fino a un certo punto e poi c'è comunque la necessità di avere il supporto di un altro specialista per cui hai visto anche nelle rappresentazioni nelle planimetrie di la odicea è evidente che il nostro contributo era quella della documentazione dello stato di fatto e poi inevitabilmente c'era bisogno di qualcuno che sapesse leggere quelle pietre e che poi potesse dare indicazioni per una possibile ricostruzione per cui è sicuramente stimolante con tutte le difficoltà che ci sono devo dire che rispetto ai primi anni diciamo che c'è stato un avvicinamento alle tecniche del rilievo maggiore negli ultimi anni rispetto a quando io ho iniziato a lavorare ricordo la mia prima esperienza è stata fatta all'Himnos che era l'immagine che abbiamo visto nella copertina della presentazione dove io sono andata a lavorare con il professor Tinè per fare proprio la documentazione di scavo e la cosa divertente era che il professor Tinè non si fidava assolutamente delle nostre misure per cui la sera andava a ricontrollare con la bindella quello che avevamo fatto e ovviamente con con insomma faceva sorridere un pochino questa situazione però c'è c'è stato proprio la collaborazione è aumentata nel corso degli anni e credo che questa possa dare valore sia a chi si occupa di geomatica di rilevamento preferisco scusate che ovviamente a a chi si occupa di archeologia nel senso più estesa certo per noi è veramente stato secondo me una rivoluzione che ci consente di avere dei dati che prima non avevamo molto più completi molto più precisi e questa è anche un'altra cosa che ti avrei chiesto nel senso finalmente abbiamo questi dati tridimensionali e beh non so se da parte tua forse è una domanda più per gli archeologi io non so se li sfruttiamo abbastanza cioè se tipo il discorso che tu facevi sull'affidabilità del dato se è una riflessione se c'è un lavoro che stiamo facendo su quei dati lì oppure se dato che le tecniche sono così alla portata di tutti adesso sia facile semplicemente utilizzarle fare quello che si può tanto viene fuori un 3D carino viene fuori l'ortofoto so più o meno dove lo amico e non so se hai un'opinione in merito su questa cosa se no magari c'è questo rischio c'è questo rischio perché questo poi lo vedi semplicemente guardando anche un po' in internet no? per cui ci sono beh senza fare pubblicità a un software specifico ma ci sono tutorial che ti spiegano come fare come ottenere il modellino carino bello visualizzabile senza neanche avere nessuna minima conoscenza di quella che è la fotogrammetria io parto dal presupposto che ognuno ha il suo sapere e deve usarlo al meglio per cui voi dovete sapere che un rilievo può essere fatto bene o fatto male quindi dovete fare attenzione a quando richiedete un rilievo dovete andare a verificare appunto quella che è l'attendibilità del processo di restituzione poi sono la prima a dire che dipende sempre da quello che devi fare perché è anche vero che nel momento in cui hai bisogno semplicemente di fare una documentazione veloce appunto una cosa che possa essere visualizzata velocemente va benissimo cioè non stiamo a fare a controllare la precisione se è millimetrica se rispetta la scala 1 a 10 però noi facciamo documentazione così come lavoriamo con voi che vi occupate di voi archeologi noi ci occupiamo ad esempio con i colleghi di architettura di restauro quindi dobbiamo comunque dare un prodotto che sia scientificamente validato certo vedo Gabriele non so se vuole aggiungere qualcosa diciamo che vabbè io non sono un esperto di 3D e di queste cose qua però diciamo ho sempre visto con un certo scetticismo come noi archeologi abbiamo e ci siamo approcciati a questo mondo nel senso che da un lato c'è tutto il mondo del rilievo e quindi estremamente utile dall'altro c'è il mondo diciamo della visualizzazione chiamiamola così l'archeologo ha spesso utilizzato diciamo questi sistemi per uno scopo fondamentalmente divulgativo di visualizzazione cioè si creavano si sono creati dei bellissimi modelli e poi da questi delle bellissime ricostruzioni proprio per presentare magari lo scavo eccetera mentre e qui diciamo secondo me il problema molto molto poco è stato fatto da un punto di vista analitico cioè questi strumenti sono stati poco utilizzati da noi archeologi come dei dati su cui puoi creare fare delle analisi e costruire interpretazioni modelli ipotesi tutto quello che volete che vogliamo e questo diciamo è stato un po' il limite secondo me dell'uso del 3D in generale o comunque di questi strumenti in ambito archeologico e quindi benvengano secondo me strumenti se ne parlava all'inizio insomma erano stati citati all'inizio come ad esempio il BIM cioè la possibilità di scomporre e diciamo associare informazioni agli elementi architettonici benvengano sistemi appunto di annotazione semantica degli elementi in modo tale da aggiungere significato e quindi permettere analisi e interpretazioni ultimamente ci sono degli interessanti progetti che utilizzano ad esempio l'intelligenza artificiale per fare annotazione semantica e questo diciamo di nuovo secondo me è un uso più consapevole almeno io così lo intendo quindi questo grande mondo del rilievo delle restituzioni 3D insomma tutto quello che abbiamo visto finora in pratica è un mondo che è stato fondamentalmente sottoutilizzato dall'archeologia non ne sono state comprese forse anche per difficoltà tecniche all'inizio appieno le potenzialità e non è stata compresa proprio la sua capacità di creare dati accennava alla fine del suo intervento Francesca una differenza a cui io personalmente tengo molto magari 70.000 volte è venuta nausea tanti cioè la differenza tra digitalizzare e datificare cioè rendere dato un fenomeno un oggetto e quello che fanno questi sistemi è quello di rendere dato una struttura archeologica un relitto una pistola un oggetto eccetera eccetera e questa potenzialità secondo me non l'abbiamo sfruttata pieno piano piano mi sembra piano piano questo arrivi come ci sono interessanti lavori proprio su la parte finale che veniva descritta nell'intervento insomma nella risposta cioè su che cosa si può fare con questi dati quindi tutta la questione dei paradati quindi di come è stato preso diciamo costruito è stato restituito questo questo modello questo rilievo eccetera eccetera che permettono poi di nuovo un utilizzo consapevole è chiaro che se la mia precisione è scarsa nel senso che quello che mi interessava fare era un modello che girasse sul web per far vedere come lo scavo è un modello che io non posso utilizzare per vedere non lo so le micro variazioni statiche nel tempo questo diciamo va da sé quindi tutto questo piano piano secondo me sta andando verso una maggiore consapevolezza da parte degli archeologi cioè di considerare questi come dei veri propri dati su cui costruire qualcosa è un processo che è iniziato da qualche anno non è diciamo mainstream però sta iniziando penso che forse si avrà un uso un pochino più consapevole da parte nostra come archeologi di questi strumenti io sono molto molto d'accordo una delle cose che magari poi approfondiamo nel pomeriggio che io vado a fare è sfruttare i 3D solo per avere prodotti 2D bidimensionali quindi avere l'ortofoto avere le cose scosici disegno sopra eccetera ma la potenzialità del 3D sì è anche avere il classico prodotto che poi devi consegnare la soprintendenza e va bene rimane è un modo anche per comunicare la pianta voglio dire è fondamentale però allora sfruttiamola a 360 gradi quindi ecco sicuramente è un tema di cui adesso si sta iniziando a parlare e di cui magari poi riprendiamo nel pomeriggio non so vorrei solo citare Elisa che ci ha scritto un messaggio in chat purtroppo non può non le funziona al microfono dice che ha fatto un'esperienza in laboratorio con voi Caterina e poi adesso che è tornata a lavorare con gli archeologi si rende conto che la precisione è un concetto che è un po' un po' fallace vista la facilità di utilizzo dei software però proprio il fatto che probabilmente questi software questi strumenti sono adesso sempre più comuni ci porta magari un po' come è successo con il GIS a almeno una parte di noi ad approfondire questi strumenti ad utilizzarli davvero ecco sì anche perché questi strumenti ci permettono anche elementi ad esempio di collaborazione a distanza cioè ora appare più evidente detto magari un anno fa uno diceva vabbè ma cosa serve ora diciamo l'evidenza del covid ci ha reso manifesto tutto questo però la possibilità di avere dei modelli che siano annotabili e quindi di poter lavorare in maniera collaborativa contemporaneamente sullo stesso sullo stesso modello aggiungere quindi informazioni annotazioni al modello diciamo dell'oggetto in sé possiamo aggiungere in maniera puntuale analisi diagnostiche che sono state fatte su quel su quell'oggetto e quindi accrescerne sempre di più le potenzialità in un ambito diciamo anche teorico possiamo raccontare attraverso quel modello la biografia di quell'oggetto cioè tutte le sue usi trasformazioni percezioni che ha avuto quindi penso che sia un campo veramente al di là giustamente degli aspetti della precisione che magari sottovalutiamo ma sia un campo veramente inesplorato da molti punti di vista teorici metodologici e che ci permetta invece un utilizzo estremamente intelligente di queste tecnologie che poi ora per fortuna rispetto a qualche anno fa sono di più semplici applicazioni di più larga applicazione quindi diciamo certamente no sicuramente non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa qualcuno ha domande abbiamo ancora se volete direi che c'è tempo se no ci riaggiorniamo alle tre però non avremo con noi i colleghi di Pisa io vi saluto perché inizio lezione adesso ecco grazie grazie a tutti grazie a voi grazie a presto bene non so Elisa se no vedo che non ci sono domande ma quindi Elisa Costa conferma insomma quello che diceva il tuo Gabriele che stiamo noi archeologi acquisendo implementando le nostre conoscenze quindi sì assolutamente siamo d'accordissimo e sarebbe bello poterne parlare con più con più calma perché è un tema veramente interessante non lo so io a questo punto è l'una mi fermerei insomma cosa dite ci vediamo più tardi con chi può esserci ci vediamo verso le 15 cosa dice Eleonora sì 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 ringraziamo i nostri i nostri relatori perché ci hanno davvero dato degli spunti interessantissimi e delle esperienze che insomma non si sentono tutti i giorni ecco quindi davvero grazie anche per la vostra competenza e diciamo siete stati anche bravissimi secondo me a spiegare cose complesse in modo semplice che non è scontato ecco grazie grazie a tutti grazie a tutti